E si siamo in live, ciao a tutti e benvenuti signori, ciao a tutti, siamo in live, bene Anche oggi siamo qui, siamo tornati qui con Elisa Smith, perfetto, e siamo qua sul dipartimento di Viespucci e iniziamo il servizio, per dopo l'aviazione, adesso vediamo un attimo Torniamo in pattuglia, collega noi, prendiamo la mia auto adesso, va bene, vada, vada, prendiamo la mia auto, se no c'è la mia fuori, vedo io, guardo colpi, vedo io, tu mi vedi bene i capelli biondi, no, un attimo allora, anche te non ti vedi bene la maschera, eh no, non ce l'ho, dimmi che non mi vedi bene, ora, no, tu, no, santo cielo, Niente? Vabbè? No, tu? Niente? Vabbè, 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 vabbè. 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 La festa del vanilla. Non lo so, potresti vedere le eve 20, vediamoci, vediamo sul tablet. Mi sembra alle 22. Sì, alle 22 Ok Vicecapitano mi riceve? Sei mutato Vicecapitano mi riceve? Oh, ando strazza Vicecapitano, te la proprio sono da lei No, sarò impegnato Vabbè, penso andiamo a controllare Penso Scusate, stavo guardando ancora su live Su live book Se andiamo a fattugliare il vaniglio Se niente mi riceve? Ma abbiamo arrivato la radio mi sa Tenente mi riceve? Tenente? Qualcuno radio ci riceve? Ok, noi ci dirigiamo a pattugliare il vaniglio Dato che c'è un'inaugurazione a breve, ok? Ok, ok Capito, capito Se avete bisogno, vediamo Sì, perché c'era molta gente Quindi andremo a pattugliare controllo la zona Di la vanilla Chiudo Oddio Oddio come... Oddio come calo negli FPS Tenente scusi ma parlavo con noi Demi Ciao Benvenuto in live Non c'è nulla qui, vero? Vuoto al parcheggio No, vai, vai, tranquilla Pura che ci sia qualcosa No, no Però C'è ragione E anche i bisogni dei sorti Eh, far così Oddio quanti player ragazzi Oddio quanti siamo 119 No, non sono Tenente, david Di quanti siamo Gig 120 player Cosa? 120 player 120 player Guarda la U Porca miseria La società tra questi boy scout Madonna Forse pubblicherà delle cose Riseratevi E' parcheggiato le info Salve Non c'è lui No, a me l'hanno fatta uscire Ma io l'avevo detto Possiamo spostarci Non sento Non sono mai stato Ciao 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 Salve che accenca Ciao 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 Ma t'ora quanta gente che c'è qui all'inaugurazione Oggi Mi dai di venire Aiutami Siamo di più giusti Credo fare l'inaugurazione Ora Mi hanno Eh Non so Non so Faccio delle domande Però Faccio delle domande 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 Allora dove le ha nascosti C'è Nel furgone Nel furgone Nel furgone Non ne ho furgone Io che amico Piacere C'è la regina Io sono Romolo Io sono ancora Io sono ancora Io sono quante persone che ci sono Collegate Mi vedi male Mi piace Mi vedi male? Eh Vabbè Ma che sono Prova a giocare a carte poi Sospettate Eh Ti vedo bene Ok Non vedi quanta gente che ci sta qua Mamma mia Vabbè Non vedi Mi vedi biondo Che mi vedi Adan2 Si trova a vanilla Ma che ci sta Non vedi Quanta gente c'è Mamma mia È rimutato È rimutato Tu sei pratico Di sti detti Che cosa Mi volta mi dimentico Salve Si si Salve 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 Sì si Ovvio Io sto pratico Però Non ho capito Ti parla di tutti Ci sarà L'apertura Tra un moto Il vanilla Ma dove va? Sì Sto qua Non darmi il filo Sì Sto bene Assolutamente sì Sì Sto bene Sto bene Per me lo sanno C'è la libertà C'è libertà Libertà Di amare Sono tutti strani No glielo consiglio Però ce l'abbiamo Pronto? Che ce l'hai una giospa È passato l'autobus Beh collega Mi racconta Devo andare Devo andare Per me Arrivederci Arrivederci Mi racconta collega Arrivederci Sì Sì Salve signori Buonasera Salve salve Tutto bene Molto follato Stasera qui al vanilla Noto Molta Molta gente Noto Stasera Si Parlevo con i 100 dollari E mi faccio l'annuncio Non ce li hai? Guardia Scusate Ma che c'è la sigaretta? No mi dispiace Non dietro con me ora Ma c'è troppa gente oggi eh Sì Tantissime Cosa? Vabbè passa un passo E si sente di meno Pocasino Eh già Qua c'è proprio Qua c'è Qua c'è Qua c'è insiosa Nell'annuncio Ricorda di far parcheggiare I motorini fuori Non all'interno Guarda lì Sì Io sto meglio Ed è sicuro E Sì Lo trova Ma come Sporre Far entrare Le persone dentro Ma è Poglio Ma si parla Come si Messo Sul su Ragazzi Io sono Agramo Veniamo 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 Mi piacevano Madonna Quanta gente Si vede Infatti Troppo La fatta in giretto Senti Bebe Veniamo Ragazzi La gente Sì Venga Venga No Sì Eh Devo offrire io Eh Ho trovato questa moto Messa Scusate Ma qualcuno fuma C'è una sigaretta Ho chiesto Sì Buona fortuna Qua a destra Polizia Sì Salve Buonasera Buonasera Questo dizio mi ha fatto una fattura di 300 dollari Chi? Oh nonno Lui il tessista Ciao Lì che l'ha visto Quello lì che ho appena Guardatevi Allontanatevi 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 Qui Smith abbiamo Esplosione multiple Vanilla Unicorn Chiediamo l'intervento dei medici Ah ok Scusi Non lo sappiamo Adesso come verificheremo Non vi preoccupate Ripeto Esplosioni multiple Alba Unicorn Che bella Innappurazione Guarda Guarda Ma non è che scoppio pure dentro qua Ah ragazzi Accommodatevi dentro Viammi nel successo Mortaci su E di chi non glielo dice Oh Oh mio dio Ma Mi sa che Un bug Si fa Con tanti player Sai Non penso sia un admin Che lo fa No Ma Casissimo Mi sa che Con tanti player Succede qualcosa Si bug Tutto Ma secondo me Tipo qualche veicolo Che perde benzina Esatto Fate passare Fate passare Si salve colleghi Ci sono Una grossissima esplosione Multipla qui Nel parcheggio Vedete qua C'è Gentilmente Stai lontani Sì Ma la macchina Che esplosa qua Eh capiamo Procediamo a rimuovere tutto Come Assicurazione Le pagherà tutto Non si preoccupate Ah boom Faccio Attenzione Attenzione Sì sì Buone quindi Occhiudiamo Ciao 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 La sua auto Non si preoccupi Facciamo rimuovere tutto Non si preoccupi Pagherà la sicurazione Mantenga le distanze Venga un attimo Tenente So Dentro E procedo a fare un annuncio Per dire la gentilità Di stare lontani Da questo parcheggio Quindi Intra dentro Volevo prima Parlare Con Ah ok Perché Comunque Spazio Tuo Quindi Prima Volevo sentire Va bene Perfetto Sì ha fatto bene Ha fatto bene Guardi Rimuova Le carcasse Che riesce Tutto in Discarica Ora vediamo Già Avvicinando Un po' Di più Riesa Risolvere Perché Qua Minchia Un casino Mamma Mia Minchia Ho Veramente Buonasera Sì Fra In caso In caso Ti faccio sapere Sì Sì Già Tutti Dentro C'è C'è Il braccio Traffico Dentro Un attimo Che qua Mi scusi Signora Assista Sì Può togliersi Da qui per fuori Che c'è Meccanico Che deve lavorare Sì Grazie Buon lavoro Grazie Smith Questo Package Poi mi dai Magari Tuo Sono disarmata Collega Non so perché Come? Sono disarmata Collega Non so perché Ah Non ho le armi Un problema Mi sono sparite Siamo in tasca Me l'hanno rubata Non so 379 fra Ma come il giubbotto Prima 455 Quattro Di certo Devo fare di madre Sì fra Ha fatto di chiamare Anche cambiato Vabbè In caso possiamo prenderlo Dopo Ma che cazzo è successo Questa C'è stato un piccolo problema Quanto in interdistanza E' un'assampo L'essere Adam 2 si trova Vanilla Unicorn A tenere sto controllo Le esplosioni Che sono venute Nel parcheggio Faccio attenzione Mi vorrei stare lontane Da questo parcheggio Signore Sì però E' bruciato Quindi Eh attenzione Adam 1 vi aggiunge Lo spero Fammi fare una foto Però penso che ormai Qui sia normale Vedere esplosioni Non credo Andiamo al chiuso Va che è meglio Tenente Ok abbiamo parlato con il titolare Allora adesso farò un annuncio In cui dirà praticamente Di parcheggiare i veicoli fuori Ok Quindi noi adesso staremo un attimo qua Controlleremo che non ci siano Ma fuori dove? Fuori Lui ha detto fuori dal Dalla tona Quindi Ok Qualsiasi parcheggio Però basta che sia un parcheggio Non sulla strada Esatto per noi L'importante è che Non siano Ci siano parcheggiati In modo normale E consono E soprattutto che non ci siano Accumuli di veicoli E soprattutto veicoli Di fianco alle persone Ok Ma passi parcheggi Non sono le parcheggi Non sui marciapiedi O a borodostrada Diciamo che sarebbe più consono Però Secondo me potremmo anche Perché non si crea una fila Su marciapiede Di sicuro Però se qualche macchina Se qualche macchina Con un po' di consenso Comunque Non faccio Non faccio Non faccio Sì Anche perché Più che altro La mole Efficente che c'è Non so se passano I parcheggi fuori Eh Ma se magari Facciamo parcheggiare Una macchina Ogni due parcheggi In modo che c'è Distanza tra loro Sì sì Possiamo anche fare così L'importante È che non ci siano Accumuli di macchine Perché sono quelli lì Che creano Questi sassi Sì 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 Ah vado a controllare In fondo Sì Aspettiamo Al volo Certo certo Allora il sospettato Lì mentre ci stavo Parlando prima Dove è arrivato Il camion Quello della Peter Eccoci qua Si staccamento Corranno Ringrazio Prepariamo Puri qua Non mi ubi Il posto Oh mio dio Quanti veicoli Collega quanti veicoli L'hanno già fatto Il titolo del vanilla Noi non abbiamo Tanta autorità Quelli Quello con la manzata Sul retro Quello non è Quello che si aveva In moto Non so Non so Tutti Sono tutti vestiti Di rosso Qui Vabbè niente Ce lo stai Ecco lei Sinceramente Io non so Che prima Francesco Francesco Va a mignotti Come Signori Posso chiedermi Una cortesia Avete Faccheggiato In questa zona Perfetto Grazie Anche loro Sono dei Trufatori Signori Posso chiedervi Una cortesia Avete Faccheggiato Peccato Qua dietro Non troppo Perché Quando si chiedono Questi agglomerati C'è il rischio Di No No Ma basta Non fare Entrare I motorini A gente Ma Lì non c'era Motorino Eppure Sono esplose Le macchine No No La fate A parlare A 40 metri Di distanza O dall'altro Che non si capisce Un cazzo Ragazzi Ciao Il proprietario Dello Cale Che fa Venga Venga Tu Le spostiamo Subito Grazie Grazie No A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 Oddio Di chi è la moto E si serve il direttore di sanitario Di chi è la moto E non è il dono dentro Che la deve abilitare all'utilizzo Io gli ho posto di spiegare Un po' Ora capito Che cosa Signore Ma non hai capito come si chiamava Eh l'ho speso ormai Cumulo di macerie Oh vabbè spostava Comunque piacere E anche Faccio un saltino signore L'altro Signore Lei Faccio un saltino Lei Faccio un saltino fuori Eh ma signore Ce l'ho un cerottino È un problema grave C'è lo vedo Un po' Molto Mi ha tirato un pugno Il mio amico Per farlo Sì perfetto È un saltino E' il trice Ti senti Non ha avuto È atletico Quanto è un leggo Sì perfetto Mi sa qui Mi sa qui Tutto Tobias Mi ha bisogno Della autorizzazione Vabbè io Sento l'associazione Che ho carmi Cogliono Dopo questa sto facendo spostare un po di macchine da vetro che c'era un agglomerato non riesce la scopola con la scopola si vede che capello sanno c'è manesco del caschetto e capire caschetto ripetere per ripetere per quanto fa dei problemi e siamo già tre pattuglie vanilla la portiera delle chiavi ma che cazzo sta facendo la chiamata la polizia quanta gente c'è vice capitale capitano ci saranno almeno un centinaio di persone qui a vanilla c'è un sacco di gente capitano per esempio non ce la fai non ci rischi capito capito ma tu dici che sono io mi sei capitano? si mi sei dicendo qualcosa? ecco lei grazie pronto? no mi dica non è il vice capitale ma perchè nessuno mi ha fatto non è il vice capitale è la quarta che sto chiamando c'è carica mica non è il vice capitale me scusi non la capisco mi senti grazie continuano ad arrivare devo parlare con il vice capitale dicono richiamo 30 secondi venire al vanilla libera penso stia arrivando il vanilla vice capitale va bene ah la vedo parlare messo andiamo capito si eccolo oddio mamma mia ho fatto il salto della vabbè va vabbè mi dica è pazzo? è agente? no sono 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 signore come va? non so mi addio capitano c'è troppa gente c'è troppo via 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 che brucia la macchina via via che brucia l'ha pensato samara samara mancia le macchine per favore spostiamo le pattuglie non ho dato l'altro con lei che basta che qualcuno avremmo degli estitori rispondo io dice che io voglio dirò di gatti e fice colleghi e domandare un ottimo l'ospedale la radio mi scrive benvenuto benissimo attimo solo da saverlo prima mi sente ok a quando fare il dottore per me così così grazie il vento adesso arriva mia sorella un altro secondo che faccio un'altra corsa caraccia la maria capitano senti a chiedere oggi studiato ancora se subito così sì secondo che prendere la situazione in questo momento anche dono allora se vuoi dire a direttrice mio nome in codice golf 7 golf 7 ci sono trovate persone tra un po tra un po ha detto dobbias che è golf 7 lui non so penso che abbia capito lei no? eh forse è stata una frequenza golf 7 allora senti me senti me oh cazzo oh cazzo capitano l'estintore dov'è? l'estintore non ce l'ho io non ce l'ho capitano l'estintore dove è capitano? quello che è sopra il muretto il capitano c'ha l'estintore io non l'ho mai avuto l'estintore capitano l'estintore capitano l'estintore via davanti al vanilla dove si trova? mi sembrava un gruppo di formiche state sparpagliati guardate le persone non dovete farla revisione il meccanico faccia attenzione quanto arriva col furgone e lei mi scusi il meccanico? il meccanico? faccia molta attenzione con il furgone perché già stavate per far esplodere un altro taxi eh signori il furgone purtroppo è incastrato lì e noi stiamo facendo del nostro meglio non è che ci divertiamo a farlo esplodere eh capito ma fatelo fatelo con attenzione perché eh adesso vediamo un attimo comunque tenente quanto pare ehm tutto è causato dalle moto e i motorini perché perdono benzina mh ho capito infatti anche ieri al concessionario ha stato un motorino una moto o qualcosa eh sì 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 sono le motociclette che perdono benzina e poi succede patatrack mh ho capito però effettivamente anche i veicoli comunque c'è da fare attenzione allora quasi quasi vieterei in assoluto l'entrata di motocicli e ciclomotori eh secondo me è già fatto però qualcuno ci scappa sempre ah beh va beh se qualcuno scappa scappa può succedere vabbè però non c'è nessuna esplosione diciamo che comunque da un po' che io sto vedendo che non entra più nessuno possiamo anche evitare di fare spostare le macchine quelle che sono dentro basta ce l'hanno fatta ok perfetto arrivederci grazie mille per i pagamenti a titolare ok ottimo lavoro grazie mille Allora è già finito io te l'ho detto eh vabbè non fa niente ecco lei c'è stato un piccolo non c'è ricetta per i soldi in tutti i sensi mi sarei curioso di assaggiare un po' di tutto quanti drink avete di tipo ti prendo ti accetto come una siga scrucata al campetto mi guardi male dai portai 300 io te l'ho già detto guarda lei al massimo 3 drink ok quindi un assenzio un whisky e un martini trovi caramelle ma nelle buste dopo le ingerisce faccio bingo tu continuo a fabbricare sono ricco dopo la sera allora abbiamo un'attività ma c'è un poca vendita senzio è una bocca a piedi devo parlare con il titolare c'è cannes dai passati qua fai un giro perché mi parla di meccanico mi da un'altra bravo 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 e via gb grazie a lei sono finito in una cella fredda come me aspetto che la volta saga e mi prese a vale 25 sembra fare dischi la sfida della scena la scena di fischi bravo sta scena il mio sogno si stende dopo i titi begga rinzegno sti coglioni come si rete ho scambiato soldi droga armi mi sono stato bravo a fare danni monete alla fine le armi alla fine mi sono fatto 4 anni io no no me ne pento fanculo rossato sarà il vostro tormento fanculo anda fanculo il suo bando continuerò fino a quando non mi assorderai ma le mazze è legato eh vabbè cosa porci corti morti io sono real i vostri cazzi sono corti di che c'è droga siamo ingordi è finito la scedale cosa non ti ricordi ehi male 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 bene 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 liberiamoci dicono fanculo allo stato e tenete balla vincere no no non ti conviene la vita la sprende che come viene come bloc come bloc come bloc come bloc come dice bloc facciamo schermo fanculo allo stato e le balla facciamo schermo silenzio al pubblico per fortuna alla cera non mi piace portami rispetto ciao ragazzi non sai che cazzo è il ghetto sto è una chiesa non ti aspetto sono diretto continuo a ringraziare Cristo di avere sopra di me un tetto si è scomparto puff come non detto non ti ho risposto prendiamo ma d'afferr finito che sopra in un occhio aperto anche nel letto che è la presenza da lontano e non è il mio cazzo eretto io ho sentito che ci hanno l'assessio che cosa offrite voi qua grande bravi forse è stato meglio farlo qui visto che una puttana si è terribile no Mark vai tu a fare allora poi ci fai inserlo e vabbè noi vogliamo doki 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 guardi dovrebbe passare in giro per il piazzone è un camicia mi sembra si becca mi sembra a me grazie mi nel soja si sarà fuori salina grazie mi è andato dentro oh madonna mia grazie bello quanta gente ma che cazzo ero bravo non lo so non lo so non lo so non lo so ma io sono qui solo perché claudia mia moglie se lei adesso la voa qui ah parlando il fausto ma detto che si era portato due stecche a presto le due stecche poliziotti ah una brava ragazza e io l'ho lasciata a roma adesso l'ho sbagliato te la portate a presto guarda sera non si può è abituata è un ex ma perché ne sono mi rispondono ah vabbè ho capito e lei che lavoro fa di bello io sono il baob ma ne basta uno graisse come è quegli artisti quanta gente c'è ah c'è tantissima gente qui ah boh ah sono quelli vestiti rosso c'è una bollingua alcuni erano mascherati eh mi speriamo signor che poi qualche costi soldi pure a me mani magari ah no ma troppa gente troppa ascolto più musica commerciale non questa sciocchezza ho capito fape allora io ho provato a farmi trasportare nera palaccio non ho capito un sacco di parole strane diciamo anche uno stato e ne parlava trente ah va perché non ho sì sì quello che dicevano io esatto non so cos'è flow però la musica si è il flow cos'è mi scusi no do cazzo un motorino sono austriaco me lo tica lei cos'è in inglese ma è cazzo è flow è la che ragazzo scusi ciao eric scusi signore questa moto la prossima volta eviti di entrare nel parcheggio eh sì faccio attenzione è molto pericoloso da parcheggi fuori perché? perché perché le moto saltano in aria aiutando la causa l'esplosione città sono la casa delle esplosioni sono e io ho chiesto di cambiarla ma ancora non è che è la sua muta ma anche se anche se manca la targa abbiamo fatto un permesso sia che per foresta da qui che non vorrei mettere tutti i cittadini la parcheggi fuori dai 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 si preoccupi se l'interessa andava via poi in testa di cazzo eh era già stata affissata una volta che non aveva non è quello che ha fatto i band ah no lo so però comunque oggi se non ah forse non era lui ma quanta gente c'è ah quanta gente c'è quanta gente non per i panti oggi io e il dc capitano abbia beccato un professionario che non aveva la targa e gli abbiamo detto c'è un attimo perché non avrebbe dovuto più utilizzare quel peicolo e però non mi ricordo se non ho messo ho detto io non so dove è però che l'abbiamo perso ma lei deve fare esame o no deve fare un centrale tutto bene devo dare adesso si 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 non lo vuole fare adesso se no che rischia che rischia che rischia eh che rischia tutto bene normalità come è stato tutto bene la musica tutta quella ciopanila voi ma non lo so qua ho messo un po' di puzza d'erba io a dire la verità dentro ce n'era sì ma questo è perché c'erano 80 persone in uno spazio per 40 guarda là comunque sovraffollamento c'è un po' troppo di sovraffollamento questa zona guardate che prima c'era molto di più forse qualcuno se ne è andato via ma beh si sono un po' sparsi in giro i fuochi d'artificio ma era a regola questa questa qua si 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 è dal titolare il titolare signorino il che servire di dove la comprare è speciale per le donne mi piace? sarebbe più bello rosa tenente io devo fare l'esame a una una leva ah si agente con la moto no? agente vogliamo andare adesso? accompagnate in centrale esca con sta moto esca fuori questa moto è pericoloso salvato in corner costantine chi è che ha preso fuori questa moto fuori non portare attento la moto è pericoloso capitano se vuole compagnia si vedi vedi si tanto c'è una cosa veloce non mi va e più che altro è che c'è stato una persona che purtroppo è caduta dentro e mi ha fatto un sacco male sbattendo sul ginocchio mio tenente leva via? no no accompagno al capitano andiamo in centrale ok allora andate a fare bandi vuoi fare l'esami? c'è qualcosa che non può attraverso scusate credente come mai nota che la vedo zoppica? eh perché non mi sto sentendo molto bene scusate ma la moto che era parcheggiata qui a fare è stata rimasta eh venga venga io avevo parcheggiato la moto a cui vuoi la raggiungo troppo mi sento sempre più stanca e non capisco vediamo se ci sono tutto nei parati siamo in un po' troppo sei giorni vuole qualcosa la porto è in ospedale sali la porto è in ospedale ci guardi si se possibile tenete tenete aspetta a meno dietro il finestrino è alzato il finestrino è un attimo è un attimo oh dio collega tutto bene? la vedo a terra di stesso calcoli non è uscito la moto che c'era sul marciapiede non la vedo più non la vedo più ah è lì ok ok la bici è sempre collega eh ma la moto che era sul marciapiede la rimossa quello è c'è caduto nel cesso no guardi noi non abbiamo toccato come si chiama lei giacomo rambelli giacomo rambelli targa della moto e chi se la ricorda se no sa dire non posso aiutarla allora vediamo un attimo la signora lei vediamo un po' signore venga qua venga qua me la segnerò dai un secondo possiamo ottenere la segna si 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 ok il controllo non è solo nelle database è stata sequestrata era una cfr 1000 era perché già trovi qui fuori dal cancello ha perso la macchina il controllo nelle database è stata sequestrata la moto la moto visto che era qui sul marciapiede e qui fuori si chiama lei magari giacomo rambelli vabbè eh allora Elisa le denunce si fanno in centrale eh no controllo è stata sequestrata sto chiedendo è stata sequestrata eh controllo invece che te un attimo no no ma non dovrebbe perché l'ho visto anch'io e chi lo capisce più Giacomo le tue si chiama lei si e la sua era cfr 1000 fcr 1000 fcr quella ok quindi controllo il database un attimo ok Aaron ma io ce l'ha un po' dà un occhiato alle persone si subito vedo che lei ce l'ha veicolo un attimo è molto lunga ma anche poi il nuovo database devo imparare un po' usarlo eccolo qua eccolo qua allora la sua moto pensava pensava avesse pensava avesse questa la moto perché era appaggiata sul macchiappiede allora a questo punto controllato ho visto una gente che restava venendo in moto chi era? era costentine se non sbaglio le moto solamente quando si richiedono eh io non lo so ora lo dico salute bello salute oh no stava ditta scemo che porca di te eh sì dentro è problematica la cosa mamma mia giusto un pelo capite niente è il nuovo trend del momento cosa una cravatta un po' sbricciata slacciata lo sai com'è è un completo dolce gabbana questo no? mhm la cravatta è fatta così apposta è cucita vedi è dolce gabbana come stai da 15 il colore è bello mario guardi altano un attimo ah sì a me non dispiace così verde però però bello te lo tieni fai all'interno oh robin no non c'è non c'è no non siamo così tecnologici purtroppo va bene sicuro che ho detto di capire che Dione vado lei purtroppo la chiesa allora la col bar hai parlato al capitano per le licenze tutto tutto ok bene quando farete l'inaugurazione non so bene sono contenta allora organizzare con Karim e vedere un po' in bocca al lupo allora per la tua nuova proprietà spero grazie grazie quando farei l'inaugurazione chiamare ci sarò certo allora io vado un po' in giro controllare magari essere meno casino di qua chi lo sa magari viene anche lì tutta la città da vedere oggi siamo anche tanti cittadini magari andare meglio sì ok vabbè ci vediamo in giro ciao sia ma è impossibile stare là ma quanta gente c'è mamma mia troppa no me ne sto nel mio angoletto e me ne fissa il muro c'era circa un centinaio di persone c'era qui al vanilla oggi vabbè so solo che io me ne sono stato all'angolina insieme a Karim e buono Karim ma anche a te complimenti per la nuova diciamo per il vostro nuovo nuova proprietà oh grazie mille il nuovo bar complimenti sono contenta eh bello bello adesso lui siamo molto non vedo l'ora che venga aperto ecco così non ci sarà più ceppi e che era la centrale eh saranno tutti là dentro eh almeno saranno tutti un posto bene proprio dove stare cioè eh sì sì infatti invece di stare in un garage a caso in un parcheggio sarà in un bar almeno un posto di ritrovo vero e proprio quello giusto 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 vero vero scusa stasera sono un po' così ok va bene mi sembra non ti piace tanta gente ma non è proprio quello in realtà a parte tanta gente che mi dà veramente fastidio perché strirano e basta sì eh mamma mia e cioè quando una persona parla stai zitto poi parli dopo cioè molto semplicemente cazzo è rimasto bloccato voi i meccanici non glielo potete rimuovere bello dove? è lì quel veicolo mi voglio ammazzare in fondo ma mi chiamate voi scusa mia nonna però vabbè ci vediamo in giro allora buon lavoro anche voi buon lavoro buon lavoro buon lavoro buon lavoro abbiamo un problema eh macchina chiusa non riescono a demolirla oh vabbè il cartel si riesce a tirarla su eh ma poi tra l'atlete non riesce a demolirla solo che loro stupidi perché potete lasciarle là no perché lasciarle là perché non fare la voli eh c'è niente niente la ciapelle niente c'è la è meglio se ci brilliamo secondo me e non guardiamo sì ma io se non guardiamo sì perché ci manca solo altra esplosione ah sì ah ho c'è fai un saltino per favole certo grazie eh no neanche caccia riesce neanche la macchina è proprio maledetta vice capitano vieni che è successo tu riesci a la pleghiera del sacco drago bianco per me spalita per me no vediamo se la pleghiera del sacco bianco lasciate pendere aspetta proviamo chiamate popeloni altro miracolo di caccia li mettiamo un telo magico capitano è il capitano ma cosa cazzo combina pesce da sua macchina no è il telo magico il telo magico se adesso vengono che telo magico fosse di pipì capitano io non lo vedo tanto mi dispiace e niente il velo magico non funziona poca troia nessuno ci riesce a fare non c'è più poca miseria c'è ancora la cosa eh sì lei non la vedete più no non la vedo più ti dice la parla di tutti non la vedo più tra l'altro eh mi dispiace per i proprietari nooo cazzo perché scappa signore è mia sorella che c'è piangere nonna no mi ammazzo mi ammazzo non sapete parlare luna alla volta non ce ne occupano da parlare luna alla volta tutti insieme dovete parlare facciamo una fattora per il tutto un problema ti parlare con la sua parlare sappiamo io mi sento benissimo grazie è meglio così esatto perché se ti le voci in lontananza no 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 c'è sempre casino comunque vado c'è sempre gente che parla dopo prende un punto di azione la donna mia c'è sempre gente che parla se vuole solo altro un panino gli posso dare eh è lunga storia forse perché sono vicine ci sono delle interferenze tra di loro oddio forse si senti le altre persone attorno addio io non ce la faccio più non ce la faccio più la gente comunque parla c'è sempre gente che parla è un casino ci siamo un centinaio di persone qui io infatti so anche abbassati i toni di voci per cercare di non essere diciamo imparciato ma non si preoccupi lei non è mai di fastidio si mi scusi ma lei non aveva organizzato ho capito oggi si si no domani 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 cosa domani organizzo dalle 18 alle 19 ma l'orario c'è scritto non c'è non ha scritto la radio però sì c'è l'orario eh sì controlli ben è aperitivo prima di scena un aperitivo sì quanto costa quello che lei ordina non c'è un prezzo fisso quindi non è tipo un open bar dove posso venire ubriacarmi no è un aperitivo non è una sala e come una buona piua ogni tanto bisogna beverci su comunque ci sono anche gli alcolici a disposizione vedi vedi e poi incontro per vedere la nuova caffetteria della città incontrare un po' di persone magari fare qualche affare per lei ma non c'è scritto all'orario e allora guarda se scommette se vada a vedere io lo trovo ti manda una foto poi prego non vi arrabbiate mantenete la calma comunque si è soltanto per essere più precisi loro sono le nostre amiche forse cioè prima non lo erano vedo nemmeno adesso conoscenti direi conoscenti esatto 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 vedi vedi video bivouacrisse comunque si è male delle onde positive ancora deve bene capisce signora controlli sulle informazioni nella prima riga c'è scritto l'orario inoltre c'è anche un countdown sulla destra countdown countdown esatto esatto la pronuncia prima di tutto canda eccola con un truffatore schifo truffatore 300 dollari per 20 metri buonasera 20 metri mi ha fatto girare tutta la città ma non è vero è pure ficcato sotto uno quasi cosa si si tu è sicura? sono andato ascolto a questo signore mi occupava la vista la lista delle mici online si 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 è suo locale cattivo no 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 io ho fatto ho fatto richiesta per farne uso non so che non c'è ancora un proprietario io mi occupo di organizzare grace oh ci viene le grace che farò diversi eventi tutta la città e al momento ancora niente sto cercando sto tentando gli esami come organizzerai guardo il bibite tutto cioè si compra tutte le cose no no inizialmente mi volevo occupare io dei caffè e delle ciabelle però poi ho parlato con quelli del vanilla e sono ben contenti di venire loro scherzo occuperanno loro della vendita loro occuperanno della vendita e lei io collega smith si io e l'agente carlin andiamo a fare un giro lei è con il vicecapitano ok ok va bene ok con cosa è arrivato è con la sua autovettura ok a posto vediamo la mia non c'è più vicecapitano oddio è dietro è lì è qua davanti ah si grazie ok a più tardi a più tardi no no io ho fatto solo io mi occupo della parte gestionale adam 3 ok gli sposti sono in radio si 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 adam 3 che altro gente lei mi consiglia mi dia un consiglio anche per le prossime volte visto che vogliamo fare come nel futuro e mi conviene sempre avvisarvi o basta fare le vendite a noi ma guardi se le decide avere diciamo un controllo un controllo con le ciao artemi si sono donna questo server mi piace ci sta si vuole che qualcuno che controlli l'evento agente posso chiederle un favore si stanno per tenere gli esami scusi ma lei non c'era di 7 minuti fa l'esame esatto riesce a dare un passaggio in centrale di polizia non ho un'auto io non ho mi ero appena cambiato di battuglia signora c'è un taxi c'erano 40 taxi qui pronto rose dove sei stai in ritardo per il colloquio rose rose 7 minuti di ritardo mamma mia anzi ne farà anche 15 se continuo così è vergogna guarda quanta gente c'è sto servo facciatemi il conto 116 più che altro a parte che domani è una roba molto leggera per conoscere mi sta ascoltando si si ma io spero spero vivamente che non ci sia qui tanta gente come c'è oggi perché se no sarà un puttanaio dentro quel posto no ma fatta visto a parte che è bello grande però comunque è orario d'aperitivo si chiede una roba leggera spero perché ci sono un centinaio di persone no 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 non lo dica non lo dica i miei occhi stanno piagendo comunque io le consiglio sempre magari di avvisare chiamare il servizio dicendo oppure andare in centrale recarsi in centrale ogni volta e parlarci con gli agenti così magari vengono a controllare aspetta però una cosa io sono già stato una volta in centrale l'accesso ce ne sono vari eh si ma dov'è il puttanaio se io entro sono quasi scelto di trovare un po' sai i parcheggi? dei parcheggi? ecca la lei in pratica cosa fa? lei dritto per dritto e lei sale le scalette ma dove sono queste macchine che esplodono? ma sono qua comunque lei sale le scalette dritto per dritto e prima di andare nel camion prima di diciamo di entrare dentro fa la chiamata fuori aspetta che arrivi la gente ha visto che parcheggiamo noi noi parcheggiamo sempre arriviamo ci trova sempre sulle scalinate un po' come a downtown quando noi arriviamo assaggiamo per forza quelle scalette ok ok perfetto va buono perché io ero entrato avevo visto sulla sinistra una sinistra e poi sulla destra un piccolo banco bancone d'esche quando entrano si sono tutte le sedie per i meeting adesso c'è il bancone di solito usiamo quel bancone lì per fare le cose oppure nella hall il principale dove c'è le scale il bar lì c'è anche un'alta scrivania potremmo usare in caso anche quella se è occupata quell'altra e poi a seconda delle gravità si va nell'ufficio abbiamo più cose che poi immagina secondo me la parte più divertente della centrale sia sotto e non ai piani alti esatto spero di non doverci mai andare fare una visita normale sotto abbiamo la zona della scientifica del reparto della scientifica con laboratori magazzini vari di raccolte e sequestri poi abbiamo un altro piano sotto con le celle dell'armeria come sono le celle sono tipo 8-10 celle due sale interrogatori sono quelle belle moderne o quelle un po' vecchine sono grande sal grande grandi coveretti grosse così un po' ma non troppo buona fortuna farò vedere un giorno i suoi colleghi come sono io ho conosciuto tutti bravi vai colleghi fortunata sono va bene la lascio al suo lavoro ho risolto risolto è una strada di peggio l'ho lasciata in disgrazi la vecchia speriamo che non si sia il buy bar ecco ha detto che è compagnato un ditto in una cava oh salve ma don dove è pronto oh che figo il teaser verde le piace? che storia quello può accendere le sigarette no non posso accenderla cosa è verde non è il centro com'è? no non ho preso qualcosa sì sì mi hanno offerto il martini non è direttamente veramente lunedì quando apriamo mi raccomando abbiamo un centro di recupero carimma cosa aprite vuoi venire? dove? eh? aprite vado a imparare un po' in giro sì dovrei aprire un centro di recupero ah e dove? e vuole chi mi scriva ah e c'è bene forse buonasera Alberto pronto mi diche pronto? sì ho cercato di fare pace con Cristo vero te è stata fatta no come state ragazzi? Cristo non vuole pace lui ce l'ha qua oh è caduta una monettina voglio che la prendete c'è una monettina qui per terra Jesus Christ veniamo veniamo vieni a te che la prendiamo insieme vabbè vedaci se ne è andata e ci hai provato grazie infatti non dimentichi i nomi lei è io mi chiamo beniamino beniamino salve 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 la gente ti dica niente il suo taser è bello sì le piace? è molto bello grazie tu ti notano il mio taser? eh sì e le notano la sua bellezza? è quello che il cloud mi ricorda Stevie Wonder voglio fare una gara hai messo il bianchio o li vedo io bianchi? ma non mi fanno male tutto bene? tutto bene lei eh si viva avanti ci siamo un po' divertiti mi piace il mio taser verde bellissimo bellissimo finché stavolta non è puntato contro le nostre facce è bellissimo spiegate con lo strago non posso estrarla vabbè comunque è una cosa scusatemi non mi sono ricordata no faccio faccio prego prego ehi le parole sue ma non era biondo eh vici capitano eh sono tutte fumate le armi eh non ho più le armi come mai? non lo so mi sono risvegliata senza armi ma è in centrale eh ci sono? voi che siete stati qui fuori eh mi conviene spostarvi perché stiamo sentendo tutte le vostre conversazioni no vabbè mi aiuto eh ci sono delle armi in centrale non senti non senti non senti venga io ragazzi alla pattuglia? no no è quello tipico cinema italiano anni 70-80 hai detto no no la pattuglia ti capisci? ti sei vabbè dicevo che domani apri il bar l'espettacolo era ma che è sto fatto? scolare scolare per tenere perché non è caro alla pattuglia o no? no mi ero messo un collegato via con un altro quindi sto con lei solamente di pattuglia infatti mi sono collegata alla sua che pensa a radio scola stava scola 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 guardia salte karma porco dici che collo no calmo no 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 agitatine le persone no no agitatine le persone eh vabbè situazione poi ci vedremo tutti in centrale no cosa sarò io con la città ti ha detto smith mi sente? un attimo si la ricevo eh dopo l'operizzazione un certo thompson per la circolazione con un furgone e gli ho detto che entro la giornata doveva andare a fare la patente se entro le mezzanotte non trova la patente poi non può più circolare ok se non fa la patente entro stasera si si direte così confermato? confermato che io gli ho dato l'autorizzazione di girare fino a stasera ancora hanno fatto la patente con la mamma mia mi dice verso la bendita maria città rimango in pattuglia con lei io mi vado da sola no vabbè se vuole può andare anche da su ok perfetto John salve quindi sono stato rimandato spero eh sì salve salve va bene ho capito grazie ci vediamo domani allora ci vediamo domani grazie mille capitano quanta gente ancora per i colloqui eh mie ah sì vabbè allora andiamo al piano meno 2 meno 3 ma sono un po' stradati i piani quella centrale eh sì mi parli un po' della struttura del dipartimento allora il dipartimento è diviso pari perni diciamo per dell'alto oh perdona mia quanto ho sentito la gara no no in più si intende il falco è una lag bene live sì ho fatto vedere un pezzo di centrale dammi quindi poi farò vedere il resto perfetto perfetto ehm Adam 3 in direzione la corte maimuola ecco qua sì 60 colpi 60 colpi 60 sì sì certo non riesco a muovermi ok parlami delle norme comportamentali di gente nei confronti innanzitutto dei civili sempre molto educati e non devono assolutamente rispondere male anche se hanno torto devono avere sempre un comportamento niente ho avuto un problema ok ok i civili non si vengono mai a dare informazioni di solito appunto mandiamo verso un superiore che parli con un superiore oppure appunto diciamo di solito che non so frasi ci lasci fare il nostro lavoro o così via chiamo di non salve 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 no no non so scavalcare cioè Malix non so non so non so chiamo non so comunque non so Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so, madonna, Alex, sto impazzendo anch'io per questo TS che si bugga sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho toccato il picco di 122 player. Mai visti così tanti. Quanto corrono quelli? Spenga il motore. Grazie a tutti. 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 E perchè non la vedo allora? Un attimo eh C'è qualcosa che non quadra Quella è una macchina Ma? Un secondo eh ma Aia Ma che problema c'è qua? Io vedo che lei ha Vito Vitelli Io si chiamo Parisi le mannaggia Vito Parisi no Vitelli No mi scusi Che sta succedendo? Che sta messo a faccia dei problemi Capire delle cose Allora Veicoli lei ha la Eccola Eee Scheme Patente A e B Sì 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 Tutte registrate E sono io che ho problemi Un attimo ho avuto problemi Ho sballato persone Salve Smith Oh Sono stato segnato a lei in pattuglia No come da me sono in live Eh sì sono con la polizia un attimo Vabbè Sì 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 Vabbè non lo stesso Sono Allora In centrale In centrale A posto Oh No ce l'ho fatta Va bene signora Ce l'ho fatta a fare un controllo Del database Aspetti che lei possa giratubi Prima che è succeduto un manicomio Ok sì Meglio Ehm Comunque Sì A posto Le documenti sono tutti a posto La moto è sua La moto è sua Sì sì Che dobbiamo fare la multa No Vabbè stavolta Facciamo che chiudo l'occhio Avviso Mi ricordo della sua faccia Mi ricordo di lei Allora avvicina che ti do un vecino Vieni No 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 Ehm No signore mi dispiace Sono in servizio E che ci fa Non mi dispiace Eh vabbè Comunque ecco qua Solo commenti signore Grazie Grazie E vada per piano Arrivederci Va bene Mi scusi ancora Arrivederci Buon lavoro Buona giornata Vada pure Eh deve andare prima lei Agente Smith La tenere in centrale Eh Sì Avanti Ma che si Hanno parlato via radio? Hanno parlato via radio? Sì Adam 2 Avanti Ricevuto Chi ha parlato? Eh vice capitano Eh non l'ho sentito Cosa ha retto? Eh che va fuori servizio Ma mi sentivi in radio a te? Sì a te sì Ok perfetto Vice capitano mi sente? Io non la sento Esco rientro la TS Un secondo Anch'io non la sento Vice capitano Sì Agente James Avanti Ok La sento Adam 3 La sento Ok vice la sento Dico Eh lo so Amanix Io vado fuori servizio Un pochino Può essere Grazie con lei Interferenza radio Mi sentite? Sì sì La sento La sentiamo Eh dico Vado fuori servizio Ricevuto Ecco i ceppi Oh mio dio Qua che Tutto a posto? Eh Tutto a posto? Sì Oh madonna Come va gente? Tutto bene? Tutto bene? Sì Scusi Ma vuoi con la moto? Con la macchina? Con il motore? La macchina La tirata fuori dal garage Che già fumava È incredibile Eh Il mistero della vita Vabbè Ho chiamato un meccanico Oddio Eh sì Ho chiamato Però Sto aspettando che arriva Arrivederci 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 Ceppi Sì Sì Senti tutto radio, chi ha parlato? Senti tutto radio, chi ha parlato? C'è la mia moto, se vuoi. Sì, sì, no, ci serve solo per fare delle prove. È chiusa a chiave? Rosa? Sì, è chiusa a chiave. Ok. Ma una cosa, ma la Cuma... Buona fortuna comunque, ragazzi. Sì, già ho sposto richiesto di rimborso al... Lei è il signor ultimo? Sì, mi ricordavo che Elinor me l'hanno vietata perché non riuscivano a mettere le targhe, perché rimborsavano anche là. Solo che ancora a me l'hanno rimborsato, quindi... Va bene. Arrivederci. Signori, vi saluto. Arrivederci. Arrivederci. Buona giornata e buona giornata. Arrivederci. Ciao Kelly. Ciao, bella. Belli. Come prosegue? Eh? Come prosegue? Con... Procedere tutto è bene, dai. Parte il miliardo di persone che c'erano al vanilla prima, tutto ok. Auto che esplodono a random in giro per la città, tutto ok. Bene. Facciamo un controllo qua alla venita. Certo. Alla fine il sospettato è stato arrestato. Non ho idea, penso che uno sì sì, uno sì penso, e l'altro con le moto no. Quindi stiamo comunque attenti a vedere una moto rossa. Sì. Ok. C'è nessuno? No. Sono venuto cinque secondi fa qua. Ciao Michael, grazie per il follow. Salve signori. Salve. Tutto a posto? Sì sì, stiamo buono, ci stiamo sistemando, sì. Ottimo, eh, buona fortuna. Buona serata, buona buona. Grazie, grazie. Tu mi vedi bene bionda? Sì sì. Ok, perfetto, si è sistemato. Il problema adesso è sugli altri. Smit. Eh? Il problema adesso sugli altri. Eh sì, ma no. Non li vedo più con lo stesso colore di capelli. Ma no. Saranno fatti una tinta, che ne so. Può essere. Eh, dipende. Problemi troppi. Tutto bene, Michael. Tu? Giochi ancora a GTA, ma i giochi hai giocato più a 5M2, Michael. Dove saranno i cittadini? Boh, penso che la folla dal vanilla sia andata comunque. Sì, infatti, sulla pasta al vanilla c'era poca gente. Dove è la concezionario? Proviamo. Lo vi è blista tutta sfasciata. Dio, via. Gente che abbandona i veicoli. E poi dice, ma dov'è il mio veicolo? Dov'è? Guarda caso. E l'ha desfatto. Perché avevamo serve fino a 4 ore fa? In che senso avevamo? Che è successo poi? Taxi, fermo là. Mi sa che sta parlando con qualcuno, no? Sta parlando con qualcuno, vedi che c'è qualcuno. Beh, l'inversione di marcia ha fatto. In effetti. Andiamo solo a digli, lo fa domani. Guarda lei. Fortesemente spenga il veicolo e mani 10 a 10 sul volante, grazie. Ah, bello, Michael. Ma per quanto tempo l'avete avuto, server? Cioè, da quando è che l'avete aperto? Annuncio via radio, eh? Qui a Dan 2, stiamo aperto un traffic stop all'altezza della media di downtown. Vicino a concezionario. Signore. Cortesemente, bassi il finestrino. Poco, due settimane. E che questo è il finestrino con manovella. Tranquil. Comunque, se volete venire qui a giocare come giocatori, dovete fare la white list. Può fare il mio intanto i documenti, patente e tutto quanto. Mi ho manato il Discord ad Arte, mi basta entrare nel Discord e poi seguire tutte le informazioni che ci sono per fare la white list. Eh, è girato, è un po' tono buono, eh. Eh, signora, ho fatto una bruttina inversione di marcia. Mi sono a rischio un po' la circolazione anche per quanto riguarda gli altri video. Eh, ma io ho fatto, io ho fatto controllazione, no, ma chi decido. Eh, ma un'inversione del genere non si può fare. Ascolti, faccio un controllo dei documenti e... Collega, mi dica pure come si chiama, faccio il controllo, qua c'è già la pesa line. Allora, Ibrahim, con l'H, dopo l'A. H? Con l'H dopo l'A. Ibrahim. No, no, ma è l'italia iniziale? I-B-R. Ibrahim, ah, amin. Amin, esatto. Ok, eccolo qua. Allora. La licenza di guida è valida, qua? Poi, il veicolo è il veicolo da lavoro, penso. Sì. Infatti non è segnato qua sul database. Aspetti che chiedo. Scusi, il veicolo, il fornito dell'azienda? Sì, della Downtown Cabinco. Perfetto. Verifichi se c'è la targa che corrisponde a quel documento. Certo, verifico subito. La targa corrisponde. Occhio. Controllo l'altamento adesso, non è qua. Il signore non ha precedenti penali né molte. È tutto in regola. Allora. Signore, le ridò i documenti. Ciao, da Polintop. Buonasera. Cosa vogliamo fare qua? Non facciamo più in versioni del genere? No, no, no. Adesso presta più attenzione perché è giusto, giusto essere attenti. Sicurezza di altri guidatori. Belle parole. Perfetto. Mi raccomando, mai più. No, no, no. Ricordiamo di lei. Io penso di parolazione, no problema. Perfetto. Arrivederci. E' buono di sera, gente. Non hai visto anche lì quel motorino correre e sfarciare verso il vanilla, collega? Eh, sì. Andiamo a fermarlo. Sempre solo ritroviamo. Prova ad andare verso... Prova ad andare verso Groove. Un giro qui forse hai fatto la benzina. Hm, può essere. No, niente. Vabbè. Qui a Damandù aggiornamenti per quanto riguarda l'esplosione al concessionario. Downtown, passo. Ma poi questo non c'erano quei giorni o così, e poi non pensi a poter nulla. Oh, mi addio, ma che è? Eh, signore Diglett. Eh, lo so, volevo chiederlo. Eh, su Notizia Flash hanno detto che ci sono state delle esplosioni al concessionario Downtown. Ci siamo passati 5 secondi fa, ma non c'era presenza di nessuno. Bellissima. Eh, negativa. Non sappiamo nulla al riguardo. Che c'è avuto? Diglett per caso? Ancora sì. Assolutamente sì. Ma come... Facciamoci caso all'elicottero qui a sinistra? Una? Hanno parato via radio? Sì, sì, ma... Chiaretto. Comunicazione fasulla. Ah, ok. Aspetta. Hai visto il caro funebre come era parcheggiato? No, gioco bene. Qua a sinistra. Eh, no, vabbè. Lasciamo stare? Sì, sì, non c'è la strada nulla. Sì, arrivo subito, penso un attimo a una cosa. Sì, sì. La porca troia. Cazzo è la chiavata? Eh. Cazzo è la chiavata? No, però era qui a gara centrale. Siamo a 5. Sì, c'è avuto. Molto mo... Un'ambulanza. Se vanno solo scrive un messaggio. Madonna, quanti... Cosa? Ma... Uno, due, tre, quattro volanti dei sceriffi? Che fanno? Andiamo a vedere. Andiamo qui a andare. Andiamo a farsi i cazzi degli altri, insomma. Quattro volanti dei sceriffi. Quattro volanti dei sceriffi. Tu vieni con me, tu vieni con me? Di sceriffi? Sì, qua fuori. Ci sono un milione di pattoli... Ci sono 5 pattoli di sceriffi, perché già... Ci sono tutti i denti. Ah, non lo so. Ho visto uno sceriffo, ma... Andiamo con... Vado a controllare. No, no, vabbè, farò lo stesso, non si preoccupi. Oh, belli, c'è la poliziotta che non stava zitta durante il concerto. Vabbè. Non so dirle. Io ero a compilare cose burocratiche. Vabbè, non si preoccupi, va bene. Arrivederci. Arrivederci, allora, salve. Salve, gente. Salve, dottore. Eh, certa gente deve imparare la civilizzazione, qua. Eh... Eh, ma Smith arriverà al momento buono. E poi? E poi tutti proveranno. Ehm... Kelly mi senti il radio, posso? Che ha detto Kelly? Io ti dicevo. Aaron, sei con lui? Eh... Al momento no, non so. Forse è in centrale, un attimo, si è fermato in bagno, qui. Ok. Mi puoi ricordare, se l'hai visto, ecco, come... Che abbinamento aveva e che moto aveva il sospettato che era scappato da Venita, Marijuana? Eh, allora, se non ricordo male, aveva una maglietta, una felpa rossa, un pantaloncino colore nero, su una moto rossa con fiamme arancioni e gialle. Ok, grazie Aaron. Soprego. 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 Vuoi che facciamo un fermo per controllare le velocità all'entrata dell'autostrada? Sì, ci potrebbe stare. Vabbè, comunico il radio se vuoi farlo, eh? No, no, non si serve comunicando, dai. Ah, vabbè, ok. Eh, sì, devi... Vabbè, però, lievi, cioè... Ci è scappato uno in moto. Vai un attimo... Eh, esatto. Ah, ok, no, niente. A posto. Ah, ok, no, niente. Cattivi, sì, veramente. Ah, ok, no, niente. 102, e là? No, che cazzo faccia? Fanculo, sta macchina, non si accendeva. Andava ad alta velocità? Eh, a 116 andava. Andiamo, andiamo. Moto? Eh, no, una macchina, ecco. Cos'era, una blista? Una berlina nera, adesso. Questa sia questa qui davanti che abbiamo, vedi? Ok. 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 Qui a DAM2 abbiamo un codice 2 davanti a noi. Adesso vediamo se si ferma. Proseguono aggiornamenti, passo. Ok, eseguiamo un traffic stop subito dopo l'entrata dell'autostrada vicino all'ospedale, passo. Ricevuto, Adam2, se avete bisogno, chiamate. Spenga il motore, grazie. Va lei? Mani 1010 sul volante, grazie. Era questa la macchina, vero, live? L'ho persa di vista, poi ho già da punto. Buonasera. Sì, perché mi avete fermato? Buonasera. Innanzitutto, favorisco i documenti, grazie. Prego. Collega, mi fai un controllo targa, per cortesia? Sì. Grazie. Ok. Perché documenti? Ok. Dai, signor Jonathan Baker, giusto? Sì. Targa corrisponde a Jonathan Baker. Perfetto. A posto. Ok. Riecco a lei i documenti. Grazie. Sa perché l'abbiamo fermata, signor Jonathan? Perché? Allora, le spiego molto semplicemente. Prima che lei entrasse in autostrada... Appena un traffic stop arriva, capitano. Prima che lei entrasse in autostrada... Era a 118 km orari. 14. In strada urbana. Sì, ti sentivo. Prima che entrasse. Noi eravamo prima. Se c'è un traffic stop. E l'autovelox ci ha insegnato 118 km orari. 116. 116, per l'esattezza. Stavo accelerando per l'immissione in autostrada. E se ricordo che affinché lei non è entrato in autostrada, è in una strada urbana. Mi parla di sentire che stava accelerando, però. E c'è là dopo il semaforo. Ha capito? Quindi, cosa deve fare prima di entrare in autostrada? Andare basso. Meno di 110. E' un 90. 89. Qual è il limite della città per la strada? 85. 85. Dai, ritenti. Come? 85? No. Come no? Tolga 5. Ah, 80. 5. 85 con la tolleranza, signore. Con la tolleranza, sì. Però, comunque deve rispettare le 80 km orari, giusto? Eh, sì. Quindi, facciamo un piccolo calcoletto. Lei era il 116. Doveva andare a 80. Però i danni della vostra pattuglia che mi ha investito con la bicicletta non me li pagate? Quello è un altro discorso se vuole fare denuncia al dipartimento di Vespucci. Va bene? Noi stiamo parlando di questo atto che è appena successo. La differenza, ok? Se vogliamo prendere anche la tolleranza, è comunque di 80 km orari. No? Agente Smith mi riceve. Si, la riceve. Come 80 km orari, mi scusi? Eh sì. Eh, scusi, 80, mi perdoni. Si la riceve. Questa macchina non arriva nemmeno a 150. Ha ragione, ha ragione. Mi perdoni, colpa mia, colpa mia. Comunque, evitiamo la prossima volta? La riceve, mi riceve? Mi promette che prossima volta prima del semaforo andrà sotto gli 80? Ma bene. Perfetto. Arrivederci. Mi raccomando. Arrivederci. La radio mi ricevete? Niente. Niente, è buggata la radio. Devo andare in centrale, io. Chiamata, hai risposto tu? Andiamo in centrale, no. Niente, l'hanno già preso. La testa dura, eh. Forza miseria. 85. 85. Eh, ma è la tolleranza quella per noi. Eh, ok. Ma per loro comunque devono rispettare gli 80, se bisogna vedere il regolamento. Diciamo che il suo corice penale non è chiedito bene. Il suo corice penale è scritto 85. Però ha scritto limiti compresi di tolleranza, 85 c'è scritto. Eh, eh. Già. Se non sbaglio, comunque 80 è il limite. Però bisognerebbe chiarire. Infatti, dovrei parlare con quello che l'ha fatto. Ok, ok, ok. E sarebbe da chiarire e scrivere limiti uguale XY, no? Ah, ok, eh. Con tolleranza 85. Eh, infatti. Eh, però non è molto chiaro. Allora, da ora in poi saranno... Prendiamo i limiti in tolleranza? Eh, io sinceramente uso solo io. Ma quando sull'autovelox metto 85 io. Va bene, va bene. Quindi in automatico faccio come se fosse 85 in limite. Va bene. Sì. Mi hanno comunicato che c'è stata una rapina allo YouTube. Ci stiamo andando sul post. Cosa facciamo? Noi al momento siamo disponibili perché stiamo facendo i test psicologici alle nostre allenunte. Avete bisogno che ho avvisato. Va bene. Adam 2 non può intervenire. Nessun problema. Vedi che se in caso dei rinforzi ci siamo allora? In caso comunque di rinforzi Adam 2 è pronta a intervenire. Passo. Questa è pitana, non mi sente? Capitano, mi riceve? Non mi riceve nessuno. Ma chiama il capitano per fuori. Capitano? Qui Adam 2. Può recarsi in centrale gentilmente. È richiesto da... Mi cercava lui, mi cercava. Deve scendere al piano meno 3. Ok. Ricevuto, passo. Qui Adam 3 ci stiamo dirigendo verso lo YouTube. Se voglio costruire la nuova recruta. Mi sento questo presentimento, mi sento. Mi sa di sì. Ci sta però il desert verde, vero? Ah, carino, molto carino. Poi durante la notte si vede meglio, quindi... Capitano? Salve. Capitano, le posso parlare all'attimo? Signori, facciamo tutti un bel ciao ciao alla radio, rinviare via la radio perché non mi sentite. Ah. Ah, già sta cazzo di radio, scalente. Venga un attimo. Sì, mi diceva, capitano. L'attendo qua. Mi sarebbe che aiuta la signorina con i vestiti. I numeri può aiutare. Sì, penso. Allora. Anche di là? Sì. E qua? Scusate, qua non posso, però qua. Pantaloni 34. Allora, arrivo. 84 pantaloni. 84 o 34? 34. Ma già che è 33. Eh, dove sei cazzo, però, a centimetà? Ma già che è sconata con la scuola. Già che 48, mi perdoni. Tente, no, è che non mi sentiva che l'ho ripetuto. Ma che mi sono spaventato io, quindi... Non faccio già paura al primo giorno. Sì, sì, ci sono già alcuni. Hai arrabbiato la radio? No, adesso lo devo riapriare. Erika, Eric Morales, entra in radio per la prima volta. Vincita. Ok. Vincita, sentito più che mai. Ehm, dopodiché cosa devo mettere la gente? Poi, si giri un attimo, faccia vedere bene. Ti giri in questo modo. In questo modo. Ah, da un bel, ti vado sul posto. Sì. Ok. Poi mette le magliette e va a cercarci un cinturone col taser giallo. Capitano? Sulle magliette? Sì, il taser. Tenete? Tenete, di che ha tutta la radio di riavviare il telefono. Le magliette che numero è, gente? Questo è un taser, diciamo, che è speciale. Unico. Cioè, io sono io. Però è simile. Io ho il numero 33, come il mio taser, 33, però è verde, ecco. Quello giallo è un'altra parte, dipende da cosa vuole lei. Se lo vuole verde, 33. Se lo vuole nero, 33. Se lo vuole giallo, è un altro. Benvenuto in polizia. Grazie. Scarpe cosa metto, agente? Eh, va bene, quello. Sì? Sì, come si trova comoda. Basta che non siano tacchi. Poi fare gli accessori. Sì, accessori. Extra 1-8. Extra 2-14. Così vede il tic qua. Non si gatta la spalla, però bevamo sul radio, ecco. Mmh, mmh. Poi... Eh, un attimo, le braccia lì, le braccia, un attimo. Devo sistemare le braccia? 31. Sì? 31. Con i guanti. Anche lei, agente, si mette i guanti. Sì, si mette i guanti. Capitano vuole i guanti. Benissimo. Ok, poi il resto si decide... Oddio, il resto decide come fare. Benissimo. Qual è il numero del catalogo del taser verde? 33? Cosa? Il mio 33 è il mio taser verde. Però il problema è che noi abbiamo il catalogo femminile, non so se è lo stesso. Appena vedo un taser nero, è quello. Perfetto. Salve. Salve. Ma lei è? Io? Eric Morales. Dura. Ok, buona sensazione. Non sarebbe male. Oh, scusi, tenente. Capitano. Eh, sicuro? Può avvisare per fuori a tutta la radio di riavviarla, perché se no non mi sentono. Eh, guardi, sto aspettando, faccio proprio di riavviare, faccio fare un riavvio generale della radio dopo. Ah, ok, un riavvio generale. Mi pare con... E in più ha avuto modo di contattirsi più volte nella sua versione. Potrei richiedere di assistere all'interrogatorio? Senta, lei ha una maschera diversa? In questo momento no. Perché la vedo molto colore diverso. Aspetti, eh, aspetti. Provi, eh. Benissimo. Tenente, il resto dell'equipaggiamento... Non ho... Eh, gli dà il capitano. Benissimo, di qua. Perché in realtà credo che l'Apia ci ha preso, se... Adesso, agente Smith. Agente Smith. Eh, ti vedo sempre bianco, ti vedo. Ma porca, vabbè. Ma è tutta la serie che ti vedo bianco, eh. Eh, vabbè. Non ci possiamo fare niente. Tenente, finalmente non ti vedo zoppicare. Eh sì, ma anche prima quale è stato un mistero con sua pute in realtà? Eh... Non si è ben capito. Poi tenete, eventualmente mi posso mettere la radiolina io? Eh, che radiolina? Alla radio, certo, ma le potete benvenire. Questa qua, vedi? Sì, eh, io ce l'ho sotto i capelli. Ah, certo, certo, certo. Ti dico, non ci sono problemi a mettersela... Perché vedo qui. Ok, perfetto. Certo, proprio che io utilizzo questa qua sulla spalla. Comunque, non so se... Eh... Ok, ci sono degli equipacciamenti lì nell'arberia, però... Non so se il capitano aveva già preso la roba per lei a gente, eh. Sì. Per me già ce l'ho io. Eh, lei già ce l'ha, eh... Io la cazzo pure... Andavo a me. Ma, manca solo... Sì, sì, io ce l'ho. Sì. Mi dilego. Eccole qua. Manca solo, presumo... Eh, noi cadetti non abbiamo il pompa dentro la pattuglia, ossia. Eh, non ce l'ho la maschera. Eh, ma, eh... Dipende, allora. Per esempio, prima mi hanno detto... Mi hanno chiesto 200 se potevano prenderlo. Gli ho dato il consenso, visto che andavano in al condensore. È velocissimi. Dipende un attimo dalla situazione. Mi ha tam 3 che si prende tutte le chiamate, Dio mio. Stanno più vicini, quindi arrivano prima loro. Eh, no, ma non erano le U2, Dio mio, fino a tre secondi fa. E ti ho dato anche la torcia da attaccare sulla pistola. Quella l'hanno letale ci viene dato da pieno. Adam 3, com'è la situazione a U2? Qui a Tam 3, tutto libero. Abbiamo parlato con il soggetto. Mi stiamo scrivendo la denuncia. Ah, da Tam 3, ma avete preso quella piena tangente? Eh, capitano, vorremmo un attimo mandare con me. A me manca. Io non ce l'ho. Eh, poi me ne faccio dare altre. È la torcia da attaccare a nostra. Ok. E la torcia com'è la... Ma poi... Con il tasto E della rabbina e poi la... Oh. No, ma come la... No, allora, ovviamente deve prendere l'arma in mano... E dopo, esatto, attaccarla utilizzando l'appoggio che c'è sotto la canna. Ok, adesso... C'è ancora la possibilità di cambiare il colore alle armi? Penso di sì, però quello che faccia... Eh, secondo me sarà sempre... Buonasera. Buonasera. È intanto fare una... No, sono andato a fare una passeggiata. Capitano, scusi il disturbo, è atteso in radio. Da Adam 3. Sempre col pisello in mano del vice. Eh? Eh? Ma? Ma cosa dice, capitano? Capitano? Ma sarà lei sempre con l'uccello in mano, scusi. Chi è che mi ha chiamato in radio, scusi? Eh, capitano Adam 3. Adam 3. Adam 3. Allora, chi è che abbiamo arrivato? C'era Eric Morales. Grace Walker. Alexander Brodwell. Questa cazzo di radio, in parole è via, eh. Elisa, spiegagli poi come si usa la radio. Io ho già fatto tutto. Sì, praticamente tutti sanno come si usa. Sì, devo solo controllare. Mi avete già spiegato tutto? Sì, devo solo connettermi la radio perché qua non mi prende. E... Vabbè, l'avete settata la radio, immagino. Elisa! Cosa? Chi l'hai settata o no sta radio? No, però sanno ben come farla tutto. Sì, il problema è... Sì, sì, devo ancora farlo. Potreste cambiare i permessi, diciamo, in quelli della polizia, alcuni. Esatto, quello serve. Forse mi avete dato una radio di un sergente perché forse sono ancora... Eh, aspetta, vediamo. Se anche io ho una radio sbagliata o una radio di un medico... Avete dato un'insergente capo che... Anche a me risulta sbagliata come ufficiale 1. Quanti errori. Ciao, Grail. Aria tesa, silenzio. Perfetto, e... Broadway? Venga, è radio. Sì, adesso... Capitano, se vuole mi vorrei aggiungere nel canale erogico e le spiego qualcosa che è successo oggi. Secondi e mi connetto. Elisa, gli hai spiegato come si usa il database? Quello no, perché sono appena arrivata. Ah, ok. Eh, però dovete accettarli. Chiusa, vai. Eh? Non ho capito. Bisogna accettarli. Dovete accettarli. Ah! Eh, se hanno fatto, sì. Adesso faccio fare. Lei, agente. Ignorina. Mi dica. Per nemmeno sapere adesso. Sì. Dal tablet. Sì. Ok, lì intanto faccio, segua le mie indicazioni. Lei adesso sul database del tablet le darà la scelta di farsi, di registrarsi, non loggare. Si registri. Segua le indicazioni della registrazione. Inserisca tutto quello che deve inserire. Una volta fatta la registrazione verrà accettata dal vice capitano. Anche lei. Agente. Guarda sul tablet. Seguo le indicazioni, vero, vedi che le faccio per la registrazione. E poi dopo vi spiegherò come funziona l'intero. Anche lei, agente? Sì, sì. Stavo parlando con il capitano. Allora, seguitemi mentre vi spiego. Allora, andate nella sezione del database della polizia. E vi registrate. Seguite le indicazioni scritte per registrarsi. Non appena vi siete registrati, avete mandato la richiesta. Il vice capitano vi accetterà. E poi vi spiego come funziona. È molto particolare questa scena in cui tutti sono col tablet. La faccio anch'io. Registrazione effettuata. Ok, vice capitano. Aspetto che si registrano tutti. Una volta che ha fatto la registrazione, faccia pure quella delle modalità. Allora, rientri nella... È vero, c'è ragione. Aspetta che si registrano tutti perché sennò... Chiudere e riaprire 20 volte. Ok. Li aiuta lei? Sì, si sta spiegando la tabese. Sì, li ha accetto io dentro. No, sta scherzando, non lo so. Signori, niente. Io ho registrato... Faccio sistemare la radio, per favore. Non dipende da me. Comunque potrò posso dirvi aggiornare tutti all'ultima versione. Cosa? Aggiornare l'ultima versione. Ma che cosa? La radio? E qual è l'ultima versione? Potete dirvi il numero? Ci dovrebbe essere scritto lì per aggiornare. Vabbè, ora capiamo un attimo. Ti devo spiegare. Comunque la faccio riaprire. Ok. In teoria, quando uno si accende, dovrebbe venirci un messaggino nello stesso... Vi siete registrati tutti? Sì. Perfetto. Non sono abilitato. Ok, un attimo. Appena vi siete registrati, adesso vi spiego, siamo avanti. Grazie. 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 Via. Ok, aggiorno. Perfetto. Perfetto. Ok, stiamo accettati. Siamo a tentare. Ora giocate. Sì. Rientrate e poi... Sì, sì, spiego. Facciamo subito il coso del forze dell'ordine così li riaccetto subito. Che penso una chiamata? Avete accettato, fatto il login, appena avete fatto il login, andate... Ditevelo appena avete fatto il login, ecco, non lo dite perché se no... Eh, se richiudono il tablet è il caso di rifare il login. Appena avete fatto il login, lo aspetterò ancora qualche secondo, poi vi spiego. Ok, spero che avete fatto il login, andate nella sezione forze dell'ordine. In crea modalità. E mettete il vostro nome e cognome nella creazione della vostra modalità. Mi mandate la... Mi mandate la richiesta. Una volta mandata la richiesta, mi accetterà il vicecapitano. Ceriffi, mi ricevete? Mi spiego velocemente per colui che sono ancora col tablet. Appena avete fatto il login, andate nella sezione forze dell'ordine. Crea modalità, nome e cognome... La prossima chiamata è per le ceriffe, quindi lasciatela, non rispondete. Passo. Se ti chiamo... Mi ti hai spinto... E, eh, la gentile... C'è la tua due? La richiesta l'ho inviata. La richiesta è inviata anche io. Dopo non dovremmo mettere il numero di matricola davanti. Non c'è bisogno. Allora, un attimo. Madonna, quante chiamate. Non rispondete a quella chiamata. Non la so, la so. Sono diminuiti i player. È questa? Molto impalibile. A parte il fatto che abbiamo beccati proprio malamente a vendere. Capitano, siamo tutti noi. Contiamo su di noi. A posto? Perfetto. E dica pure i vari giorni. Madonna. Ma... Oh, Cristo. No, oddio. Oh, mio Dio. Agente, tra la cassa. Morales. Oh, c'è sempre una cosa in testa, mi sai. Ok. Ma... Eccolo. Ma... Vabbè. Vabbè. Vabbè il tablet. Va bene, eh... Facciamo così, venite il radio. È troppo lungo a spiegarla qua. Vabbè, mi vado a rimetterla la divisa. Con il video dove mi mette il radio. Eh, venite in stanza relax. Se invece capitano ce la lascia. Eh, sì, ve la lascia. Ok, signori. Ma entrate, non mi date la studio. Allora, signori. Sì, perfetto. Saremo un po' in silenzio qui, eh. Allora, signori, vi spiego velocemente come funziona il tablet. Saremo veramente su TS. Per favore, parliamo solo su TS. Perché sono... È complicato a spiegare nel RP tutto lungo. Eh, Elena, sono contatti per favore. Devo cambiare il nome adesso. Sì. Allora, ragazzi. Prendete il tablet. Ok. Fate il login. Sì. Fate adesso, vi mando il link. Avete preso 60 colpi a testa, sì? Oh. Hm? Avete preso 60 colpi a testa per la combat? No, in realtà ce ne ho dati 150. Cazzo, vi servono, cioè, prendetene una sessantina. Vabbè, ce ne ho dati... Ce ne hanno dati di più, infatti. Vabbè, ma buttateli dentro, a che vi serve? Allora, login effettuato. Arvin. Sì, scusato. Ok, allora. Adesso lo faccio qua dal tablet e ve lo spiego dal tablet. Poi vi passo il link del card da usare a su un browser. Poi, nella sezione cittadini, avrete, inserisci il nuovo cittadino, che però lo usano il concessionario o l'armeria, di solito, perché sono loro che hanno il primo approccio con tutti i cittadini della città. Invece, se andate nella visualizza cittadini, quello che serve a noi, troverete tutti i delinco di tutti i cittadini. A questo punto... Cerca cittadino, quello in alto a sinistra? No, 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 tornate nella pagina menu principale, dopo il login. Ah, ma cazzo. Ok, sì. Cittadini, andate in cittadini. Ok. Poi, visualizza cittadini. Sì. Avrete tutto l'elenco dei cittadini, no? Andate, per esempio, Lisa Smith. Cercate, permette E, e vi troverà tutte le persone con il nome iniziale. Poi, per lei, Elisa, Edgar, Edward, Edoardo, Eric, Edward, Enzo, Elisa Smith. Premette invio. Sì. Avrete motorizzazione, che vi fa vedere tutte le cose riguardo il concessionario, ovvero le licenze di guida. Clicca per vedere se è valida, infatti vedete vicino valida, c'è scritto. Status, patente di guida, valida. Ditemi se vi perdete, eh. Sì, sì, sì. Allora, io sono su Cerca Cittadini, Elisa Smith, non succede nulla. Premi invio. Non succede nulla. Hai evidenziato di blu, Elisa Smith? Vediamo. No. Ah, tu vai in Cerca Cittadini. Non in Cerca Cittadini, eh. Visualizza Cittadini, no? Esatto, visualizza Cittadini, sì. Cerchia E, Elisa Smith. Dove essere evidenziata di blu, intiogli al nome. Ok, hai fatto. Ok, premi, dovresti riuscire il mio, no? Motorizzazione, armeria, esatto. In motorizzazione, quindi tu da lavoro riguardante il concessionario, la licenza di guida, ti va a vedere le patenti. Infatti c'è il tuo status di patente, valida. Ok. Poi, se andate a vedere nella motorizzazione, sempre in registra veicolo, serve per il concessionario, quindi non toccatelo voi. Veicoli posseduti, invece ci va a vedere tutti i veicoli che possiede una persona. In questo caso io non ho nessun veicolo, quindi non gli darà nulla. Ok. Ma una cosa, quello dei veicoli posseduti, il concessionario potrebbe fare anche a meno di compilarlo o viene in automatico? No, lo devono compilarlo tutto loro. Nel senso, se loro volessero vendere un veicolo in teoria in nero che non appare, potrebbero farlo. Possono farlo, sì, però lì se lo bocchiamo, sono cazzi loro, potrebbero da loro lamentarci. Armeria, invece era poi entrato indietro, volete prendere tranquillamente il logo, il logo centrale per tornare al menu. Sì. Andate all'armeria, in sezione armeria. Sporto d'armi, e vedete, stato sporto d'armi valido, in questo caso mio, perché me lo sono svalidato io. Poi, registrar ma serve per l'armeria, armi con seduta invece serve per noi, per vedere che armi possiedo io, in questo caso non c'è nulla perché non ho armi comprata l'armeria. Torniamo indietro premendo il logo, e vedete la sezione condanne. Nella sezione condanne c'è nuova condanna per noi, che serve per noi, nuova condanna, premete. Quindi dovrete inserire nella barra la condanna a seconda dell'arresto che fate. Provate, adesso premete una a caso, infatti vi verrà scritto sotto articolo XY, possesso, non permette aggiungi, perché se no mi aggiungete non permetterlo, perché se no mi aggiungete la condanna, però dovrete premere aggiungi quando arresterete qualcuno. Se ha commesso più reati, fate più volte questo procedimento. Ma è slogato dal K multe, o viene fatto qua adesso le multe? No no, il game funziona tutto come era prima, solo che come database, invece di usare discord si usa questo. Marvino, ma tu che sei uscito dal tablet e devi fare il login. Perché mi stavo disconnettando. Sì, muovetevi tutti ragazzi in game, mi dispiace per voi da rifare il login. Posso fare il login ogni volta? Ogni volta, sì, ma adesso vi passo il link. Ciao Demi, buonanotte. La squadra stava in live in corso io anche. Vi fate il login. Nella sezione condanne torniamo, sempre visualizzate Cittadini, Nathalie Lisa Smith. Nella sezione condanne fate lista condanne e lì vedrete tutte le condanne che ha ricevuto quella persona lì. Vabbè, però è una scatata. Poi torniamo al menu principale. Ragazzi, dopo il login avete Cittadini, Forze dell'Ordine, Centralino, no? Sì. Premete Forze dell'Ordine. Selezione modalità e selezionate il vostro nome e cognome che avete fatto come modalità prima. Sì. Imposterà una nuova pagina, un nuovo menu, con una sezione tipo tutta, i codici 10, 7, ricordate, non si usano perché sono buggati. Scusate ma... Ok. Oddio. Poi, nella sezione cerca Cittadino, premetelo. Avete la barra. Sì. Scrive sempre Elisa Smith, vi darà la mia pagina di nascita. Ma a me mi dava fuori servizio. Non permette, non serve nulla quello, è buggato. È niente, ho permesso in servizio. Vabbè, farò stesso. Eh, rispiego un attimo. Un attimo nella sezione cerca Cittadino. Ok. Premete nella barra, cercate il mio nome, Elisa Smith. Una volta fatto Elisa Smith, avrete nome, data di nascita, sesso, residenza, gruppo sanguigno. Quindi ogni volta che facciamo una multa in game... No, questo qui è per cercare il Cittadino. No, ok, sì, sì, sì. Però dico, ogni volta che facciamo una multa in game dobbiamo salvarla qua pure. Esatto, sull'atabase. Ok. Magari te le appunti, no? Magari ti vieni un fuoco di carta, scrivi Cittadino, nome, cognome, no? Multa causale e poi te le fai a fine giornata se vuoi. Ma io, io, ieri ho donato, ho donato il sangue e mi hanno preso anche il sangue, ma non mi hanno registrato. Devi chiederlo. Devi chiederlo, io l'ho chiesto, mi sono fatto segnare il gruppo sanguigno B, sono io. Poi avete licenza di guida valida e potete ritirarla o meno, no, in caso, a seconda del caso, e anche il porto d'arame ritirarla o meno. Poi sotto vedete le condanne, infatti vi verranno fuori tutte le condanne che ha la persona. A destra invece vedete tutte le multe passate, vedete multe precedenti, tutte le multe che ha avuto. e sotto tutte le denunce che ha fatto, che ha sporto. Ascolta una cosa, a me è uscito dal menu, adesso sto rientrando, forze dell'ordine, seleziona modalità, grace walker, ma non mi va più avanti. Vai, prova a far andare avanti con la freccetta in basso sul tablet. Ok, così è andato, così è andato. Ma una cosa, una cosa anima, la patente viene sospesa da K o da qua adesso? Da sempre, il K è sempre uguale, ragazzi. Il K è uguale, però il Discord non si usa più. Tutte le cose che facevi su Discord le devi fare qui. Capito? Ah, ok, è solo una questione che è il nuovo Discord. Il Discord non esiste più, ma si usa questo sito internet. Non capito. Poi, usciamo dal menu del cerca cittadino, e andate in cerca veicolo, ok? Quando fate un traffic stop, e vedete la targa del veicolo, mettete la targa. In questo caso, la mia targa non possiedo veicoli, quindi non possiamo fare un esempio. Vabbè, inserirete la targa o il nuovo del veicolo. Se mi inserite tipo blista, infatti, la scheda è blista, vi darà tutti i cittadini che possiedono una blista. Vedete? Ah, ok. Sì, la vedo. Ok. Vabbè, il codice piscale? No, no, tutti i cittadini, se permette l'auto, prendete la prima blista, quella che viene fuori, e vi rispito a chi appartiene. Sì, vedo. E potete sequestrare o meno il veicolo da questo menu qua. Quindi voi quando fate un traffic stop, non cercate il nome del veicolo, ma cercate direttamente il numero di targa, e uscirà il veicolo della persona rispettivamente, ecco, controllate. Ma quello è il codice piscale? No, 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 quello lì è un pezzo lì dell'auto. Il blocco note, Dani, funziona? Cioè, se chiudo la pagina? Sì, dopo ti spiego, poi cercare una, serve per cercare l'arma. Non so come, non l'ho mai usato, quando capiterà di usarlo, lo capirò anch'io. Fai multa, ecco ragazzi, questo fai multa è buggato. In pratica voi, quando dovete fare la multa, non potrete andare direttamente a fare fai multa, ma prima dovete andare a cercare il cittadino, a caso, giusto per poterlo sbagare un po' la pagina web, e poi andare in fai multa, perché sennò non funziona. Andate in fai multa. Ok, quindi la multa da cerca cittadino, va bene? No, prima andate in cerca cittadino, cercate un cittadino calunque, e poi uscite da cerca cittadino, e poi andate in fai multa, perché è buggato, fai multa, che se non vai a cercare un cittadino, prima di cliccare quella, fai multa, ti si bugga, non funziona. Ok. Ok. In questo caso andate a cercare cittadino, mettete Elisa Smith, vediamo se funziona. Ok, in questo caso vedete, non mi funziona. No result found. A voi? Eh no, ma lo trovo a me. Te lo trovate? Sì, sì. Ok, a me non funziona, in questo caso cosa faccio? Non mi funziona, non mi trova il nome, allora io vado in cerca cittadino, scrivo Elisa Smith, ok, l'ha trovato. E la posizione che cosa intende? La posizione, il luogo in cui ti trovi. Ah, ok. In questo caso me lo trova, metto Elisa Smith, poi posizione, scrivi, boh, piazza centrale, approssimato ragazzi, un punto di riferimento che conoscete voi. Vabbè, il codice postale vicino, il codice postale guardate in mappa. Poi dopo mettete la montata di soldi che è scalata dal player e la causale della multa e poi registrate la multa. La denuncia, la nuova denuncia, anche quello lì è bagato, quindi in caso non dovesse venire fuori il nome, no? Sì, infatti, quando esce. Non mi viene, andate in cerca cittadino, premete cerca cittadino e cercate un nome qualunque, esattamente in questo caso, a parare, aspettate che viene fuori la scelta, poi uscite da cerca cittadino e tornate in nuova denuncia. Lì si sbaga, infatti verrà scritto anche lì, cerca cittadino, infatti. Quindi, il cittadino viene inserito, è il cittadino che sta facendo la denuncia, quindi. Esatto, quello che tu, lui tipo, il signor Pip Baudo viene in centrale e dice, voglio sporgere la denuncia perché mi hanno rubato l'auto, e tu cerchi il suo nome e cognome e scrivi il signor Pip Baudo denuncia il furto della sua auto e registri la denuncia. Ah, Dani? Sì? Ma sai che stavo vedendo? Guarda che le unità attive, cazzo, funziona perfettamente. Sì, sì, però proprio si spiega. Poi in blocco note, invece, funziona. Voi prendete tu, voi pratica, tu finché non quitate la server, penso, rimane salvato ciò che scrivete. Ma comunque il tablet, ragazzi, non lo userete voi in game, non userete l'applicazione del tablet perché è troppo scomoda fare login ogni volta. Vi passerò lì. O l'utilizzo? Dal telefono come funziona bene? Dal telefono non lo so, però se avete, magari vi altabate oppure vi spiegherò in un modo più semplice, facendo un shift tab con Steam, andando nella sezione browser web, lì, poi vi spiegherò io, poi più avanti, vai. Poi, il blocco note serve per scriversi delle punti. Poi, la livebook mi funziona dal telefono, presumo che non cambi più di tanto. Non penso. Aggiungi ricercato, è la stessa cosa, scrivete il nome e cognome del ricercato, adesso che è buggato, quindi dovete fare anche qua la solito cazzo di procedimento in cerca il cittadino e poi tornare indietro e riprendere aggiungi ricercato. Verrà fissato, ovviamente, più avanti. Non funziona, aggiungi ricercato, quindi? Si, funziona. Ah, però sempre lo stesso problema. Che non trova le persone, vieni a andare di nuovo, in cerca il cittadino, cercare una persona a caso e poi uscire e tornare qui. La mappa come funziona, invece? La mappa è, boh, appunto, giusto per riferimento, cioè non serve a nulla, c'è una mappa. Hai una mappa a... Ah, non ti dice il posto in cui sei, vabbè? Così quella del gioco. Esatto. Le unità attive, invece, ti fa vedere chi c'è in servizio in questo momento, per esempio, David Barton, Jack Claude, Jasper Finegan, vediamo tutti, tutte le genti che sono in servizio, vedi? Tra sceriffi e polizia. Ah, anche sceriffi ci sono qua. Sì, tutto, sceriffi e polizia, insieme nello stesso database abbiamo. Funziona. Dove lo vedi, scusami? In unità attive. Unità attive, vedi, tutte le genti attivi, vedi, tutte le genti sceriffi e cerine. Qual è il link di questo coso? Te lo passo ora. Non ho capito, scusami. Te lo passo ora. Ah, sì. Sai cosa, Dani, mettilo su Discord? No, 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 lo metto lì, sul disco pubblico, questo qui è il link, anche tanto l'ho mandato. Ok. Marvin, iscrivimi per fuori, allora te lo devi farci ricordare il database, notti. Sì. Anche te, ho trovato il link da usare su un browser qualunque, è più comodo. Dove l'hai mandato? Su Discord. Così ti salvi la password su Chrome, magari, e ti ha il tabby, ecco. Anche te, Margin, ti iscrivo. Ah, mi iscrivo tu. Perfetto, ecco qua. Questo che lo usi su TlTabby, magari, oppure lo usi su un tablet, se hai un tablet in earl, lo usi lì, magari. E' molto più comodo, vi salvate la password, così dovete sempre usare quello per far tutto. Ok, così dovete sempre usare il tablet in game, se no vi toglie l'account. Se funziona nel telefono, top. Vabbè, poi, se fate invece, ragazzi, tiratevi al tablet, uscite tutto, basta usare il tablet, è solo per il modo per illustrarvelo. Muovetevi un po', tanchitevi un po'. No, no, vi sto scollegando. Ok. Fate Shift, fate Shift Tab. Ok. vedete che sotto, in basso, c'è scritto Browser Web. No, a me non me lo fa Shift Tab. Tu non hai Browser Web. Non hai Steam tu, Shift Tab, ti dovevi aprire la roba Steam. Ah, ma forse non ce l'ho attivo su Steam. Dovessi fare Browser Web sotto e ti incolli il link lì, magari, finché non premi X per chiuderlo, in teoria ti dovessi salvare il database aperto per tutta la volta che giochi, finché non arrivi al PC. Beh, ma non ha senso, io ho due schermi, metto il browser sul secondo schermo. Sì, però, se potessi far tipo così col tablet in game, tiri fuori la L e fai Shift Tab in automatico, è come se fosse un tablet, sai, è come se ce l'avessi sul tablet, diciamo, fa più comodo. Sono già dimenticato la password. Ebbè, Cristo, bomba, mi ricordo. Ah, ecco perché non mi funziona con Steam, perché non è su Steam il gioco. Capito? Ah, va bene. Non so come attivarlo, però. Vabbè, siamo attivati al database. Vabbè, ragazzi, ciao, era il database, è molto complicato, le prime volte sarete molto lenti di usarlo, non vi preoccupate, capirete prima poi come fare. Boh, domande? Ah, no, l'ho trovato, ok. Ho spiegato bene, domande? Sì, sì, no, perfetto. Aspetta, allora, io sono il sito web del prodotto, ah, sono riuscito ad aprire l'overlay di Steam. Sì, browser web, ok, l'ho trovato. Vabbè lì, metti in colli il link. hai visto, perfetto. E finché non riavvi, c'è quello lì, finché non riavvi, usi quello. Genius, bravo, bravo. Basta che non premi X, quando fai Shift Y, basta che non premi X, la pagina web, la pagina del browser web, se no devi rifarlo, ecco, basta che premi X, e ti chiudi l'overlay. Ma è perfetto. E usi quello. No, io ho messo la scorciatoia sul tasto meno, quindi stica, ma è bellissimo. Sì, usi quello, lo usi. Top, top, top. Perfetto, grande Dani. va bene. Se avete bisogno del database, io vi posso aiutare, ma l'ha creato capoguerra, quindi dovete chiedere a lui, poi il supportore, per il copro password, da tutto, dovete chiedere a lui, perché è lui che gestisce il sito. Speriamo sia più fortunato degli altri database che uno ha messo. Ma è uguale a quello che c'era prima. Cristo santo, ha un sacco di problemi, lo tolsi. Sì, ma l'hanno migliorato, dai, l'hanno migliorato, si vede un botto, si vede un botto che migliora. Non l'hanno mai usato, e poi l'abbandonammo uno così subito. Eh, bisogna vedere se qua, ah beh, era pure perché le persone non lo sapevano usare. Ora è l'unica opportunità, questo, quindi, non si usa, non si usa. Ma per adesso, sì. perché subito, subito l'abbiamo abbandonato proprio perché ci saccava a fare tutto sto bordetto. E ora è l'unica opportunità, quindi. È un po' brutto passare da Discord a questo, perché non si è abituato, però. In realtà, però Dani, è molto più RP, è molto più divertente, secondo me. certo, è proprio un vero database questo, non è un Discord, così. E che ti ricordi se usi quello del gioco, porca puttana, ti fanno di tutto e non ti accorgi di niente. Dirci la multa, quello se ne è già andato via. E infatti, per quello uso io, tipo esempio, in Irla, un portatile a mia destra, su Simbadia, uso quello, poi il database io. Ma che ferro già? Ma io chiedo fevo della miniera. Dani, mi passi? Ah, mi scusi, accente, accente Grace, giusto? No, non ce l'ho. Te lo do io, te l'ha dato Marco. Cosa scusami, per intanto? Sul telefono. accente Grace, no? La ragazza, si chiama accente Grace, giusto? giusto accente Grace? Sì, sono io. Sì, senta, forse era meglio se contattava sua sorella e le diceva che aveva superato le SAP. tenente? Sì, si pariavano. E' ancora qua, mi dispiace, non so. Ma che aspetta, quanti siamo? So deve essere da solo. Abbracci. Come ci avete la pistola verde? Niente ferro, io devo fare una rapina in banca, ma era ferro della miniera. Ma infatti, io avevo capito così. Sì, scusi vice capitano. Potreva scrivere il mail dell'annuncio, cioè così sembra proprio... Vabbè, è marketing. No, ma io non ho neanche capito che lingua fosse... Parlava tutto così. Ma era... come si dice, un immigrato, un cantestino? E che ne so io? Adesso questi pregiudizi... Eh no, vabbè, scusa, se uno parla sospetese, c'è uno che viene da fuori, no? Beh, certo. Un po' come io, cioè io, in primi, sono uno che... ma è un buono, non lo so, sembra un ragazzo, un po' alla buona. Ma, per un po' vi posso domandare una cosa? Come funzionano per noi le macchine a pulizia? Cioè, si prendono come funziona? è vero. No, no, no. Un'ultima cosa, visto che sta qua, capitano, vicecapitano, tenente, come ci basiamo, tipo, per le armi? Cioè, l'arma automatica, in teoria, è ancora vietata. Sì, perché ancora nessuno è stato assegnato a un'eventuale unità, sarete assegnati quando diventerete ufficiali, ancora siete... No, dico, un cittadino che gira con... Non è nemmeno aperta l'arma. Ah, no, infatti, per quello, è ancora forti da armi, armi di qualsiasi tipo, ancora non è stato catalogato nulla per il semplice fatto che ancora non sono state importate per nessuna tipologia qua nella nostra isola. Benissimo. Anche per quanto riguarda le droghe, domandavo, cioè, sappiamo già una cosa. Eh, l'accolta è semicità, c'è gente, dicono, ragazzi. Ah, adesso lo vogliamo. Va bene, allora, mi raccomando, venite in radio. Mark, scusami, c'è che hai detto che c'è un po' di casino. No, perché vedo il penale va un giornato secondo me per le droghe, perché vedo che probabilmente ci sono cose che non ci stanno più. Vabbè, dopo faremo. Eh, infatti, mi sa che ci sarà da discutere privatamente. Eh, sì, anche perché comunque siamo ancora a inizi, cioè, dobbiamo ancora finire di reclutare alcune persone, quindi c'è ancora un bel po' di roba da fare. È ancora tutta fase preparatoria. Tutti, vedete, prendono le proprie imparie. Sì, vado. Le moto non sono consentite. Devo accompagnare a concessionario a far tutto, vado io. Come non ho rivuto, non ho capito. le moto sterzano una dritta. Se per le ragazze vende le radio. vieni con noi e poi niente. Eh, spero che mi cambiano. Vicecapitano, aspettate, cioè, tenente. Quali sono gli ordini? Siamo in pattuglie singole, Dani. La polizia ci riceve. Come si vuole. Venite. 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 Vai, li metto con tempo. Sì, venite. Ripetete l'ultimo messaggio? Mi sa che loro non ci sentono. Eh, mi ricevete? Perché so. Vado alla radio, ragazzi. mi sa che loro devono fare un sacco di problemi. Perché noi siamo a posto. Madonna, Marv, mi sa che un sacco di problemi col TS. Ma forse perché si aggiornano la nuova versione. Non riusciamo a... Qual è la mia? Non riusciamo a più comunicare via radio. Non so, boh. Ma non ci sento? Ma perché io li sento, tra l'altro? No. Ma io li riesco a sentire proprio. Questa. Tu mi senti, giusto? Sì, io ti sento. Ok. salite, salite. Quindi l'auto è personale? Sì, personale e una sola alla volta ma tirano fuori. E la salvo in garage in qui la depose. La salvo? No, agente normale, caretto. Ti ha detto anche lei? Sì, sì, solo che sono qui da... Sono trasferita direttamente a questo ripartimento. Mi raccomando i pali, Non si preoccupi. Questi veicoli si guidano molto meglio. Questi veicoli Ci ricevete di capottamenti con i pali. Immagino. Un po' mezzo bank una cosa. Eh, immagino. Mi ricevete? Mi sento lei. Ci riceviamo. Sì. Mi sentiteci. Mi sente? Sì, sì. Mi sa che le sheriffie non ci sentono. Ok, siamo a 500 metri. Sheriffie, mi sentite? Prego. Io non mi sento. Allora. Per riavviare la radio. Io sento. signore, stiamo avendo un sacco. A tutte le unità abbiamo un sospettato e vestito da notte con paese da notte. Siamo inseguendo un veicolo verso downtown. È passato da il fianco alla centrale. Sono seguito in segmento. ti riceviamo. Sì, siamo inseguendo un veicolo e ho le informazioni. Ok, abbiamo identificato una persona vestita di rosso. Piazza centrale. Arriviamo. Ha girato a sinistra verso la banca. Sì, mi vuoi. è andato di santo cielo. È andato di troverso il discount. Oh, attenzione. Modello della macchina, cortesamente. Metto io, Sì, si, aggiorno a lei. Modello dell'auto, per favore. Chi lì è dietro? Non piazza non piazza. Abbiamo un veicolo dell'auto. Abbiamo avuto un problema interno. che bel bel colore. È una sorta di impalla nera. Vediamo se stanno qua. Siete vicini un codice postale per caso. Guarda, abbiamo perso di vista, ripeto, abbiamo avuto un problema. In quel veicolo c'era il collaboratorio del ragazzo, mi sa perché era vestito di rosso e che era gioresco. mi hanno bucato una ruota. Porca croia. Sì, è vestito di rosso. Quello non cambia mai di bucare le gomme. È brutto vizio quello. Ma hai perso. Mentre l'ho perso l'auto, l'ho perso l'auto, la signora. Ultima avvistamento del veicolo, agenti. l'avvistamento per fuori, Marlin. Vero. Marlin, la richiesta puoi farla tu per fuori perché non mi sentono. Sì, aspetta. Minchia. Quindi l'ultimo avvistamento del veicolo. Ultimo avvistamento del veicolo portazamento verso discount. Verso discount. Verso discount. Lug. Hai ritrovato? No, no, negativo. Andiamo a ricerca ad un'altra battuglia. Che ci fate? Ah, in che radio siamo noi? Ci mettiamo in cima. No, noi siamo separati per ora, però. Ce la faremo andare a concessionario. Niente, scusami se non ti ho ascoltato per un momento, ma a Palermo 38 evasi dal coronavirus e dalla quarantena. vabbè, madonna, come sono in live, quindi non dire troppe cose strane, ok? Sì, sì. L'abbiamo trovata, abbiamo trovato, abbiamo trovato un imparare con lo siero. Vanilla Unicorn. Vanilla Unicorn. Verso Vanilla Unicorn. Abbiamo preso un paolo. Eh, cazzo. Chi di l'altezza, che altezza, dove ora? Altezza del Vanilla Unicorn. È andata a diritto verso il Bannis Custom. Altezza Bannis Custom. Controlla anche dentro il Bannis, potrebbero nascondere là. Non stiano riparando. Contalo qua dentro. Il soggetto della guida ha una felpa, una camicia rossa. Piazza Centrale, Dove ha le Shot Fire? 10-4. Oh, cazzo, sparatore, che è la centrale. Piazza Centrale, Shot Fire. Piazza Centrale, Shot Fire. Vai, veloce, Dani. No, piazza Centrale. No, piazza Centrale. Piazza Centrale. Stiamo arrivando? Tutte le unità. Arriviamo pure noi. Adan 4. Centrale elettrica. Piazza Centrale. No, è una piazza Centrale. Piazza Centrale. Giornata molto impegnativa quella di oggi. Permo attento. Oddio, scusami. Aggiornamento, situazione Shot Fire, passo. Scelese, dove sta le scelese? Valò? Vado giù. Ripeto, aggiornamento, situazione. Se non vi levate, prendete uno scherzo. tutti quanti, vi conviene, penso. Mi dicevo. Sì, ma comunicazione rilassata, cioè... Vai, 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 sì, vabbè, se non vedi che sono... sì, vabbè, Sì, sì. L'hanno uccisi proprio. Sì, mi hanno detto di là, di là, mi hanno detto i cittadini. Là? A sinistra, a sinistra, verso l'ospedale. Quella è la caffetteria. Quella è qua a sinistra. La caffetteria qua a sinistra. Ah, ah. Ma ci sono la caffetteria qua. All'interno del garage non c'è nessun civile con la roba di un po' di un po' di un po' di un po' di un po'. Qua a sinistra è la cosa che sparavano a con il po'. Eh, lo tenente, che è lo bello, siamo più o meno tra tra tra... Ecco, ve lo capivamo. E' il dipartimento di polizia. Sperte che gli porto la pattuglia, non mi hanno già eravate. Vediamo da un'ambulanza. Questa c'è Maria di San Guodo. Ragazzi, riuscite a mettere delle barriere intorno nel mentre? Sì. Bloccate anche l'altra strada, se possibile. No, l'abbiamo abbastanza fattuto. Un'altra macchina è scappata? Che abbiamo qua? Allora, la macchina... Eh, non... Ma ne avete arrestato qualcuno, diciamo? Signori! Uno sì. No. Prego, prego. Un attimo, un attimo. Un attimo, ci faccio vedere un attimo. Un attimo, un attimo. Facciamo, aspettiamo. Allora, ce ne sono altri nella zona? Che è successo? No, prima che ci muori il sanguato, il dottorino. Sì, infatti, adesso. Ma sarebbe meglio prima ispezionarlo, se c'è qualcosa. Aspetta un attimo. Sì, occhi, mi raccomando, non toccare ferite o altro. Andiamo un po' che c'è. A posto? Questo c'ha 18 armi diverse, c'ha pure della marijuana. Buona, uuuh. Eh, bene. Eh, bene. Invece a lei? Lei è tutto a posto? Sì, 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 portate la d'urgenza in ospedale. Sì. Mandiamo una battuglia. Perfetto. L'altro sospettato viene occupato e voi alla fine di Sant'Aus. Sì, sì. E se riuscite a far seguire quello, mi raccomando, ha tentato di ammazzarci. Sì, sì, sì. Aron, hai nell'ambunanza con il merito. Certo. Ah, ci penso io, se no vi scordate. Signori, le foto ve le mando a voi, della roba che teneva il sospetto? Sì. Eh... Ci penso io, Aron, ci penso io. Ah, ok. Eh... Sì. Sì, non l'abbiamo trovato. Ok. Vedi che se partire allora è tutto, ecco. Sì, ne dobbiamo portare in centrale il signore. Ok, vado a sapere se la valla. Ok, il veicolo che vi dava a chi era. È un bel problema. A quello lì stesso del terro. Ok, quindi vado a sapere se la valla. Ok, vado a sapere se la valla. È un bel biombo. E se c'è... Di merito. Verità d'arma da fuoco. No, sì, per carità. Il problema è che non possiamo metterlo all'interno del veicolo. Ma questo è il problema. Capito? Qualcuno riesce a... Qualcuno riesce a... Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Ok, li provi ora. Perfetto. Ok, l'abbiamo fatto. Dottore, dai, ennavo. Sceriffo. Adesso non c'è posto. No, l'agente si venga la battuta. Chiamo un SARS. Questo veicolo... Era quello incertato. Dai, ennavo. Pronto. Se niente... Però rimane, lasciamo un medico a piedi se la gente è da coloro. No, scusatemi. Andate, andate, vi seguiamo a ruota allora. Uno schifo di un medico. Grazie. Seguiamo a ruota. Guarda la volante. Non ci. Vabbè, noi torniamo la nostra faccenda. Agenti, qualcuno può andare in ospedale con i ragazzi e portarcelo poi in sceriffoia? Si, si, si. C'è andato alla patuglia che dietro di me. Ok, e lei mica mi riesce da uno strappo in sceriffoia invece. Eh, sto andando... Sì. Devo recuperare gli altri. Sì, sì, andiamo. Andiamo. No, no, apposta, apposta. Già c'è andato il vice capitano con loro. Attenzione. Ma io non ho capito un cavolo. Ma cosa c'è esso qui? Sono andato... Ho trovato un ragazzo che stava raccogliendo dei semini. E che aveva un complice. Il complice mi ha bucato la ruota. Quando ho visto che mi sono bloccato appunto perché la ruota è scoppiata, ho provato a tirare la mazza in testa al mio collega. Ah, oh. No, no, no. Ok. E io ho qua la scerifferia. Grazie. Prego. A vederci. A vederci. A vederci. Può crashà? Io ho problemi, ragazzi. E Broadway Grace, dove ti trovate? Broadway Walker, dove vi trovate? Siamo un attimo al discount con il vice capitano. Io ho un attimo un problema. E' un bel posto per andarci. Un problema. Stiamo avendo problemi a discount abbastanza grossi. Eh, l'immagino. Tu hai problemi a discount? Sì, ho avuto un problema, mi sono inteso. Tu hai problemi a discount? Io ne ho toccata. Sì, lo so. Dani, hai da mangiare? Ah, la donna è andata a notire. Cazzo. C'è che discount è meglio lasciarlo stare per adesso. Tu la riva, crashi? Io no. Basta non sedersi, allora. Agenti, salite pure che vi porto a concessionario a prendere le vostre auto. Eh, prima dobbiamo prendere del da mangiare. Non lo so se funziona o non funziona, perché il vice capitano è entrato dentro del... Posso andare da un'altra parte? Va bene. Qua no? Eh, problemi. Mi li rubo, vi prendo l'ultimo. Comunicalo via radio. Sì, vice capitano, ho già preso i due agenti per portarli a concessionario, poi a prendere anche i veicoli. Gli faccio passare da mangiare da un'altra parte. Ragazzi, serate oggi da... Ho conosciuto dal servizio che non riesco a avere un momento libero, quindi continuo a dover correre destra a sinistra. Speriamo che continui così. Sì, speriamo. Prego. Vedete da mangiare bene. Se non mi riesco a scendere, mi lasciamo quegli spazi. Ah, io c'ho ancora abbastanza. Poi mi prenderò... Cos'è? Mi hanno detto che è babbo e limonate, vero? Sì, però lì giù al discount solo, quella. Per quando apriranno i business... Eh, non avevamo lo stipendio, quindi... Per effettivamente i soldi che... Ma... Un po' di soldini ce l'ho ancora. Mi sembrava troppo bello che il paycheck funzionasse. Eh. Ah, al solito. Andiamo al discarso, se riusciamo. Andiamo adesso al concessionario. Mi faccio prendere i veicoli di lavoro. E poi dopo... Andiamo a prendere i veicoli di lavoro. Ognuno che il proprio veicolo torna in centrale. E poi ci dividiamo in pattuglia. Ah, le pattuglie sono sempre in coppia, giusto? O sono singole? Coppia o da solo. Non c'è differenza, eh. Chi deve andare da solo, può anche andare da solo. Allora, sono arrivato al discanto e ho un casino agli occhi. Allora, prendete qui, allora, signori. Adesso andate nel listino. E prendete tutti i veicoli di lavoro dalle LSPD. Tutti. Elicotteri, barche, tutte prendete. Stiamo portando il soggetto alla centrale di Piazza di Piazza di Piazza. Elicotteri, barche. Ok? Tutti avete a prenderli. Ripeto. Anche sceriffi, polizia, scattori. Stanno portando alla scerifferia. Sentite? Sì, mi hanno comunicato che una vostra pattuglia è al centro dei meccanici, al deposito. Ho ricevuto la pagina. Ripeto, come si mettono le manette? Qualcuno non lo sa? Musco, le F10. Musco, le F10. Attenzione, collega che non le bucano le gomme. I tizi sono abbastanza decisi. Tutte, anche barche aeree, elicotteri ha preso? Sì, ha preso tutto. Io no. Che roce. Sono degli agenti. Anzi, che te l'ho andato a un volo. Allora, lavarus, ragazze. Provate quella. Ed è una godura. Faccio fare prima lì, sennò... C'è il bagno in questo posto? Anche sceriffi, Dani. No, vado sul tetto. Beh, sei maschio, puoi andare avunque. Quanto? Sì. Vabbè, penso che posso andare adesso. Ok, adesso sì. Sì, penso di sì. Bellissima, comunque, bellissima. Sì. Che stile è? È tipo un chopper. Pd. Ma, più umano. È un posto. E poi, la cosa più figa, sai cosa... L'agente Walker? Ok. Tu hai detto? Eh... Tenente. Sì, tenente, oddio. La gente? Io ti faccio cazzo, vado. Allora, se andiamo a prendere i veicoli di servizio. C'è un posto dove si ritirano. Sì. Ma, gente, la fine non fa il servizio. Eh, avete fatto detto... Majus e F10? F10. F10 è bad, no? Sì. Sì. Ok, ora qui prendete... Ok, qua. Kaceng. 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 Salve. Salve. Ora qui prendete... La persona mi sento? Ah, non ancora. L'impala per adesso. Tu ti rende l'auto e poi salite in mezzo. Hai, ti sento? Facciamo per prendere anche un elicottero. Ma non male. Vai a vederci, Kaceng. Vai a vederci. Sente la vostra impala. Sente la vostra impala. Sto prendendo la benzina. Un attimo. Eh, devo fare benzina io. Eh, ma una cosa, se spacco la macchina, come si ripara il meccanico? Eh, non lo so, provaci, non lo so se ti metti nelle garage. Rimane, rimane come per io, eh. Prova. Pro, eh, ok. Bastardo. Bastardo. Qui, Adam 5, stiamo portando il sospettato al dipartimento di Vespucci, posso? Voi glielo dovevate lasciare ai seriffi? Eh, in effetti, avevano i seriffi e ho chiesto di portarlo. Adam 5, eh? Non ti sentono. Eh, al massimo glielo portiamo adesso, sentiamo da loro. Beh, eh, dovreste portarglielo a loro. Ceriffi, se no, tenetemi, ricevete? Ceriffi? Ceriffi? Guarda quanti problemi di radio stiamo avendo. Guarda quanti problemi di radio stiamo avendo. Ok, ora devi mettervi in pattuglie, ognuno ve ne aveva fatti i soldi. Benissimo. Vabbè, come siamo i barri noi? Ali, ripara. Perfè, sì, sì, penso di sì. Vabbè, ciao. Salve. Guarda, barri, venite po' subito un attimo, eh. Oh, riga, dobbiamo per forza quittar tutti da sta cazzo di radio, perché non ci sentiamo. Eh? Dobbiamo quittar da sta radio perché non ci sentiamo, riga. Andate tutti in canale e state mutati. No. No, no, li devi avviare a tutti. Non ci sentiamo comunque. No, se entriamo tutti una volta sola, ci sentiamo bene. Ma ha detto Ivan che sono errori di... Perché dobbiamo aggiornare TS, ho capito. Ah va, ciao. Sospetto portato all'attività del Cedipi preso in custodia dal nostro testo. Sospetto portato all'attività del Cedipi preso in custodia dal nostro testo. Sospetto portato all'attività del Cedipi preso in custodia dal nostro testo. Sospetto portato all'attività del Cedipi preso in custodia dal nostro testo. Sospetto portato all'attività del Cedipi preso in custodia dal nostro testo. Sospetto portato all'attività del Cedipi preso in custodia dal nostro testo. Sospetto portato all'attività del Cedipi preso in custodia dal nostro testo. Sospetto portato all'attività del Cedipi preso in custodia. Sospetto portato all'attività del Cedipi preso in custodia dal nostro testo. Ehm... abbiamo chiesto, abbiamo bussato, abbiamo citofonato, ma... Sì, sì, tutt'appunto. Riavviate la radio. Guarda, è rimasta un po' stretta. No, perché il proprietario... vabbè, non c'è, vedo. Vabbè, niente, allora. A vederci. Ehm... Ehm... mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Sta cresciando tutto. Quando riavviano T.S. Ma sono riusciti a buttarli giù con i spari o erano solo spari per farli scappare? Sì, sì. No, erano spari per uccidere, perché in quel momento, diciamo, la gente che era con il vice-sceriffo insieme allo sceriffo, venendo che stava per essere aggredito, ha aperto il fuoco. E' senza di riusciti a riusciti a scorrirli? Sì, sì, sì. Uno è rimasto vivo, l'altro è rimasto sotto il fuoco degli agenti, ma si è ripreso in ospedale e si sta riprendendo. Ah, bene, bene, bene. Almeno si identificano questi... Sì, sì, sì. Bene, bene. Infatti siamo venuti qua, ho detto che siamo qua, almeno qua, dovremmo stare un pochino più tranquilli. Sì, però dico, ricordate i signori che invadono una corsia, noi ora ci spostiamo naturalmente, ma i signori invadono la corsia, ecco. A breve portata, sta davanti. Avete parlato a Cedrici? Sì, sì, noi pure in questo momento, ma a breve ci leveremo. Sì, se dicevo io. Ah, va bene, va bene. Va bene. Ok, signori, arrivederci. Buon lavoro, grazie per avervi... Buonasera, ragazzi. Fortesamente spostiamo le auto dalla corsia, grazie. Assolutamente. La concorrenza si è venuta. Allora, guarda, guarda, guarda. Sì, ci sentiamo tutti. Ah, sì, sposto, ah. Sposto, c'è qualche gioco... Ah, no, 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 no. Non si sa dove sono i punti droga, vero? Sono quelli che sono i mappi e basta. Credo, tra gli altri, bisogna spremere le persone durante gli interrogatori. Comunque ho beccato uno... Ho beccato uno in concessionario che spacciava droga, però ancora non ero agente di polizia. Le ho rigliati, ho preso il numero di telefono e ho intenzione di proporre qualche assalto, qualche blitz. Bene, bene. Ma hai cresciuto anche te, tipo, il server? No, no, in quel momento no, infatti sei cresciuto tu. Può se ti sei resettato, però. Sì, sì, mi sono sistemato, poi. Come ti sembra la stazione di Vespucci? Agenti, mi sentite? Sì, ti ricevo. Ti ricevo. Ti ricevo, Adam. Che dici? Non ho capito. Non so che c'è la radio che parla, che vince il capitano. Ti ricevo? Non ci ricevi? Sì. Sì, e sono voi. Altra pattuglia. Anche ha detto... Bravo 2, ti ricevo. Ah, ecco. Sì, è troppo... Molto grande, è troppo, quasi. Eh, sì, sì, è un po' dispersivo, ecco. Comunque abbiamo quattro centrali, abbiamo. Lo sai? Come, ripeti? Quattro centrali di polizia, abbiamo. Sì, sì, ma... Manco so che ci dobbiamo fare. Oh, non ci arriva il piede a noi, porca miseria. Quattro. Amor. Quattro. Il centralino è invece del database Non ho idea, noi non possiamo entrarci In caso di essere qualcuno al centralino mi sembra assegnare le chiamate, non so, risponde lui le chiamate e le assegna alle varie volanti Penso sia da questo ma non è ancora entrato in funzione Penso entrare in funzione quando staremo più agenti e il capitano assegnerà uno che sta al centralino e risponde a tutte le chiamate Questa è abbandonata qua adesso Beh, abbandonata qua Proveri è targata a 420 ADM Degli admin Admin? Sì, non posso farci nulla Signore? Sì, sì, lo sposto subito, mi scusi Grazie Ah, mi scusi, mi scusi Non è comunque un admin Sì, sì, c'è un support team Un support team, spawno le macchine targate a 420 ADM E' a fanculo, sto ricrasciato Mi senti, STS? Mi senti? Senti tanto? Eh, sono crashato un attimo Colleghi, salve Mi senti te? Colleghi? Mi senti in game? Sì, ti sento E loro? Colleghi, ci siete? Sì, ma lo sono loro che non si sentono Non riesco a... Colleghi? Ecco, adesso vi sentiamo Non vi sentivamo Va bene Sto a posto? Colleghi, ci sentite? Sto salvandomi i link di database Se volete C'è anche quello di lifebook Se volete Sì, magari passaccio Ma sembra un privato Lo metto sul disco della polizia Ok Perfetto Comunque questa cosa di Steam è fantastica Eh sì, è più comodo Se non hai un doppio schermo O se non hai qualcosa Non lo so, ecco E' anche più realistico Anche perché io con un tasto lo apro Sì Sì, vi riceviamo Sì Vi ricevete Vi riceviamo La 2 riceve, la 2 E' un posto sul tasto meno Aprocelo qua Ultime... Peccato che non c'è un tasto ultimi arresti No, in pratica non si vedrà mai Tipo... Tipo una volta lo devi sul Discord Vedi via Le scelifie non avrei stato una persona Prima Ma no Ora non saprai nulla Ora finché non apri il schedario di una persona Non sai nulla Non vieni tipo aggiornato Ogni tot C'errebbe ultimi arresti No, ho rifiutato la chiamata Accettala Te l'ho preso Sì Tipo la posizione Io non la vedo Lspd Vespucci Diteci tutto Cioè? Ah ok Probabilmente Si è incappato In un... Sì In una truffa di duplicazione d'auto Si dis... Se ne... Diciamo Se ne liberi di una Soprattutto di quella di cui ha perso la proprietà E se tenta di chiudere il veicolo Le dirà Non possiede alcun veicolo accanto Ok Li deve mettere uno lontano dall'altro Va bene? Di nulla No, arrivederci Ok Niente Duplicazione di auto Ah, oddio Bello Toglio di strada Vabbè Vabbè per il garage Eh vabbè dai Ho dovuto accontare che Sono le 1 di notte E sono 93 player Vabbè Il problema è che puoi pianti Io spero che sarà così sempre Ma E poi c'è Oggi è il vanilla Mentre ero il vanilla oggi E c'era l'inaugurazione E ho visto Ho fatto 122 player Sì, no Io già c'ero pure C'è Hai visto 122 Eravamo già pure a 123 C'è la roba incredibile Mai visti Quei tanti sereghi era io Mai visti Manco il primo giorno C'è Avevano messo il limite Poi vabbè Però tipo Mai visti Tanti player Mai Ah se non c'era il limite La prima sera Li avremmo raggiunti pure Sì E poi Sempre di più Anche se molte cose Però sono sputtanate Tipo l'overlay Quei player E' un po' fottuto I capelli Cambiano colore Sì Ma quello lì Purtroppo è Cooperi per M1Sync Un attimo Perché Un attimo Allora Dici Discord Invece cosa hanno abilitato Ah ok No Le denunce Ah le denunce vanno pure scritte qua Però è giusto Diciamo che io Le uso per l'email Tipo lì me le scrivo Perché dopo un po' Determine si refresha E ti cancellano tutte le cose che hai fatto No Quindi E' una balla Riincominciare a scrivere la denuncia Si mette tanto Perché hai una multa ci vuole poco ora che compili tutto, però dopo ogni tre minuti la pagina si refrescia in automatico e perdi tutte le cose che stai facendo, no? Quindi io prima me la denuncia e me la scrivo lì, le mando e poi le ricopio e l'incollo sulla database quando ho finito. Eh, sto scrivendo un rapporto di una cosa. Sì, sì, ti fai pure. Oddio, io ci penso che devo andare ancora a lavorare il video del rapporto che ho fatto oggi con il pomeriggio. Vuoi la bodycam attiva? Sì, ora live, sto streamando. Ah, perutti still live. Ma penso che streamare sia la scelta migliore. Eh sì, con lo stream hai la labba, diciamo, sembra attiva. E non ti... Vi possiamo fare, lei... Non per non per entrare... Sono su YouTube. Su YouTube, no. Porca, bro. Vedete il punto di spazio. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Oddio No Non posso mandarli qua Sei su Lifebook Come? Sei su Lifebook Eh sì, sto scrivendo una cosa che mi è capitata mentre ero al concessionario Un certo Dustin Woodson, 19 anni Ah, quello che è scelto su Discord Come? Sì, lo sto scrivendo su Discord Si è approcciato ad un certo Matthew Che gli ha proposto una vendita di droga Non ben identificata Esclamando esattamente Ne vendo La vendo La vendo 50 pezzo Ah, guarda qua Concessionario di barche Guarda qui, che bello Oddio Sono un po' troppo Oriana Vado a vedere concessionario di barche Si? C'è? Si, lei qua Aspetta che spengo Ma no Che figata Vediamo che le usino Ancora non è attivo come business O come Però qui funziona Caffè Vediamo Ah sì Ti devo pagare Ma c'è la paletta Ma che cazzo è sta cosa? Un po' fisco i soldi Però io La cosa del paycheck Comunque è veramente Una cosa brutta Eh, non c'è Non funziona Mannaggia Dovevo attivarlo Ma l'hanno disattivato E attivo È buggato Dicono Devevo sistemarlo Ho detto Non so se si avveranno Ho detto Vabbè Vedremo Aspetta Aspetta La cintura Eh sì Ok Sì sì Allora Vediamo il numero di questo Che ho preso Rubrica Metti lo spacciatore No no cazzo Cazzo Sto chiamando 101 41 68 101 41 68 No no cazzo No no cazzo Grazie. 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 Grazie a tutti. Che ti ho detto? Senti per una parte operativa. Non ho capito niente. Si può vedere in mappa le varie battuglie? No. Assolutamente no. Ah, solo il nostro amico. Sì, perché vedevo che esce la comanda. Finchè non arrivano le armi, pochi crimini. Le vendite sono fuori città, vero? No, la vendita è quella che volete controllare prima lì. Basta una pattuglia, a due, nel caso di qualcuno. Ah, dico, dove controllo sul Discord nostro la polizia ha i punti? C'è il database? No. Basta, ce le hai... Abbiamo segnato in tutte le città, le pattuglie, dei punti ben a Gerovai. Cercate. Adesso controllo subito. Ok. Poi dopo che c'è la chiesa anche ora. Ok, sì, l'ho vista nella live di Fagiolini. Beh. Tu hai fatto la patente al concessionario o all'autoscuola? Come? Hai fatto la patente al concessionario o all'autoscuola? Concessionario. Io all'autoscuola, primo giorno. Te l'ho fatto fare il giro? Sì, l'intorno. L'hai vista tu l'autoscuola? No. No. Dai, lascia vedere la squadra. Vabbè, tagliamo parli qua. Però non la usano mai l'autoscuola. Vabbè, appena parte il concessionario... Usano il concessionario come fare patenti. Ben un po' lontanuccia Guarda lui Qui c'è l'aeroporto Qua sulla destra Eccola qua la scuola E' enorme C'è Ma che ci vuole fare? E' l'autoscuola in teoria dove si dire che fa la patente Però ancora non l'ha usato Credo che non l'ha sfruttato Però sì, il primo giorno hanno usato Il primo giorno? L'ascita Direzione aeroporto Ah, siamo all'aeroporto Niente, si è fermato Ah, si è fermato Ha ricevuto da Damuno, si è iniziato a rendimento Si è fermato il soggetto Ci sta, eh Ma è gentesco Ma che l'ha fatto? Va bene Bravo Vado Vado da chi è vato E' questa pur Ci penso Ci penso Non è sceliffi Al supporto Vabbè, grazie Guarda che c'è anche un'altra storia Quindi bravo Non si unisce La chiamata la siamo noi Guarda qua che cacchio E' bellissimo La chiamata la siamo noi È arrivata una chiamata Non è la loro È la loro È la posto Come? È la loro È la loro posizione È la mano Nella stessa Nella stessa Guarda che figa Cioè è abnorme Poi di qua c'è un'altra zona Guarda di qua Cioè È gigantesca E' bellissimo Bagni Ci sono E' un bagno E' un bagno E' un po' brutto Però vabbè Comunque è un peccato Uffici Ci sono quegli uffici Ci sono Sì ma il bagno Quanto è grande Un altro ufficio Sai che bel posto Di ritrovo Che ti crei qua L'officina C'è qui anche Guarda qua Qua c'è un'altra uscita E poi c'è Il distributore Di cibo Bevande Qua Molto bello Come mappa Però Non la usa Paolo che bello Aspetta entro e esco dal DTS Anni se mi lasci in centro Io stacco Ok Ok a 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 va bene ciao grazie ciao ti chiami ancora che ha detto Daniel Butcher a 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 foto è enorme e quasi sono sei piani in totale comunque è vero che ci trattano sempre bene a noi poliziotti è una gang col cazzo che si immagina queste cose eh già guarda c'abbiamo una due tre quattro cinque sei sette celle si e bisogna contare che poi molte quelle sette celle lì abbiamo altre centrali in giro e siamo proprio pieni e qua si fanno le foto a downtown abbiamo sei celle downtown sei celle alla centrale della scorso wipe anche questo poi abbiamo a vinewood abbiamo anche lì tre quattro cinque nooo eh nooo lo specchio ho fatto bene l'hai visto lo specchio Dario? si si ho fatto l'interrogatorio ci sta ci sta eppure è pure in penombra si ci sta ci sta molto bene anche la colorazione l'illuminazione nella stanza più bassa qua dentro molto bella la centrale beh è pieni di sopra abbiamo la palestra addirittura non ti rendi conto se la potessero attivare come palestra reale sarebbe fantastico si infatti possiamo proporli metterci qualche blip due blip magari della palestra ci puoi mettere lì magari di tanto al tempo libero vabbè sicuramente ci hanno vi abbiamo dato già abbastanza sicuro ci puoi ci puoi ci puoi ci puoi ci puoi rischiamo di farci sputare in faccia rischiamo di farci sputare in faccia rischiamo di farci sputare in faccia beh non hai visto quante mappe hanno aggiunto dei bar in giro ah da qua si entra per fare entrare i carcerati esatto il parcheggio sotto si si infatti i carcerati li si porta di sotto non da sopra li fa entrare la c'è se ci aprono la palestra la sopra diventiamo mister muscolo a forza gli allenamenti perché ci abbiamo due passi poi quando siamo in tanti magari ti metti lì ti fai un po' di palestra il terzo piano c'è la gym la clockwork rooms division of sherby film al secondo piano sheriff's department no è bagato ah ma è chiuso è chiuso al secondo piano c'è era aperto era aperto prima oppure no no si è messo chiuso al secondo piano abbiamo solo la il bar e basta ah no perché forse sono in una zona diversa perché già il terzo piano qua si blocca si forse è nella seconda scala si sono nella seconda scala ma qua abbiamo fatto la lezione è chiuso non gli spogliatoi non funzionanti però è doccia sempre la classe è difficile è ma un troll il è il è della il è è è è è Grazie. tutto a posto tutto a posto lei è tutto a posto e tutto tranquillo non ha cambiato idea per il numero no non ha cambiato idea per il numero no a verci immagino anch'io mi perdo spesso no a verci vabbè live io direi di chiudere qui perché diciamo sono ad un certo punto in cui si può anche chiudere live vieni miostante pare stati qui con me fate il punto ascomativo vi ricordo di essere vi ricordo di essere io vi saluto e ci vediamo domani ciao buona serata ciao ciao live ciao 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 ciao